Microbot got coffee Di una si svegliano eleganti dentro una cassa di mogano Conto soldi dei contatti, su una Supra Maxi Anche tu sicuro conti, si però solo gli schiaffi Ruota di contanti, verdi, viola o gialli Ci scrivo una H, nel frattempo gli ho rifatti Amme, guidano le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non per starmi i piedi o ti fai male Amme, guidano le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non per starmi i piedi o ti fai male Ho le palle di tre chili cabron Pervezzè che sono come Bygon Voglio tutto se dimmi perché no Sto nel club ed inizia lo show Ma non è che sono forte, livello che ridicolo E non è che vado forte, sei tu sopra un trapicso Di spurchi e ferri lucidi, stand up come ludacris Fumo grammi di butto, ci sta la faccia di sti luridi Guarda caso sti falliti, voglio nuvedermi appeso La corona brilla d'oro, ma dell'oro ha pure il peso Tu non è che sei difficile, secondo me sei leso Gente seria a drogarmi, situazioni sempre peso Pirri vogliono il mio culo perché stanno sempre dietro Gli darei la merda pure se scappassi solo in retro Amici compro case d'auto con gli spiccioli qui in tasca Se non hai capito il nome, per favore, zitto e basta Ti danno le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non per starmi i piedi o ti fai male Amme, ti danno le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non per starmi i piedi o ti fai male Amme, ti danno le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non per starmi i piedi o ti fai male Amme, ti danno le pute nel locale Amme, ecco chi ti manda al funerale Amme, l'unico di cui ti puoi fidare Amme, non per starmi i piedi o ti fai male Buonasera a tutti maledetti Siamo arrivati In V4 Belli miei Salutate il vostro nuovo personaggio Che è il nostro Hans Neuser Ho fatto un buon viaggio Bellissimo viaggio Andrea Con un bel aereo privato chiaramente Buonasera a me Buonasera a chat Come ti chiameremo Vi chiamerete Hans Buonasera Andrea Buonasera a Tania Come state? Siamo carichi C'era Tutto bene fratello Lo stesso Mi ha chiesto il numero di telefono Sempre salita storia Tocca a scopare anche qui Andiamo da questa scala di merda Stretta che mi ha già rotto i coglioni Vedere dove andare Prego fratello Prego farei spazi Buonasera Anto Buonasera Roberta Buonasera Verone Arrivo Dove sei? Dove cazzo essere? Ah no è di là È di là È di là Cazzo È di là Cazzone di noleggio È di là Avete chiamato? Sì 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 Io volevo il principe Ragazzi Il principe È grande ma È poco Il principe no Il principe Tanto non si sarebbe potuto ricordare niente Ci abbiamo pensato Ma raga Era troppo un disastro Perché poi non ti potevi ricordare le cose Cazzo un altro Krausset Krausset Ciao Verone Ciao Salva Ciao Francesco Ciao Bello Allora ragazzi Sarà una persona Molto 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 Importante È bellissimo Vero Lino È bello Come nella favola Hans e Greta Esatto Proprio Hans Ci chiamiamo Hans Schnauzer Paccalli Svizzero Tedesco svizzero Cantone svizzero Come ti chiami Hans Ieri ho controllato Com'è andata Nulla facente Poca voglia Sono crollato Com'è andata Bene 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 Alla fine Siamo rimasti vivi nel bunker Siamo svenuti con una pillola E poi dopo Ci sveglieremo Magari in un'altra vita O chissà quando Ragazzi Ciao Sandrone Il sindaco No no Il sindaco Ragazzi Mi pare Che io possa essere un sindaco Inizia una nuova storia Buonasera Gianluca Alessandro Maria Antonietta Salvatore Buonasera Io da Alessandro Grazie per il rai Canto Noi essere imprenditori Di Svizzera Tedeschi di Svizzera Vi aspettavate? Sì Vi aspettavamo Perfetto Beh con la rira Mettere guinzaglio No no Te lo metto io a te Sono il tuo daddy Un cane Ok Allora Come in America Le persone molto Foroscuristiche Camicia nera Ah sì Ecco a me E questi chi sono? Ciao ragazzi Vabbè io sono François Larouet Va bene Francesi Ha fatto buon viaggio? Oui oui Buonasera Buonasera Come è stato? Buonasera Io bene Lei ha fatto buon viaggio Ma questo Buon viaggio Buon viaggio C'è solo una Una particolare Signorina Osses Che voleva trombare Con me Ma non avere Da segnare Il numero di telefono Lei Avere il numero di telefono? Io non ho il numero di telefono Purtroppo Ho fatto male A non farse Non mi dispiace Capotto grigio Vieni con me Con chi parla Capotto grigio Capotto grigio Chi è capotto grigio? Questo qua Il biondo I capelli che appunta Lo francese Capottino grigio Vieni Giacca grigia Comunque signori Per tutti Molto piacere Sono Jonas Per tutti Piacere Io sono Hans Mi chiamo mezzi Mi chiamo mezzi Mi chiamo mezzi Che nome curioso Ne mezzi Sono fratello di Jonas Italiano Siamo fratelli Io e lui E questo qua Quattro di cina di rosa? Franzo 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 Lei è stata francese Sì La mia Francese Mi chiamo Cosare valigie Dentro macchina Qual è stata mia macchina signore? Vieni Signor Deddy Mi chiamo Questa è la sua macchina La mia era con la grigia Questa è la sua macchina La mia è con la grigia Questa è la sua macchina Ma no mi piace Ma no mi piace Ma no E ce l'è tornato E ce l'è tornato Ma no mi piace questa Eh ti prendi questa Ma c'è con quella grigia La di chi è? Chi me l'ha rubata? Quella è della prima Se no vuoi questa qui nera Abbiamo le macchine Di chi? Fermo 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 Questa è la vuoi lavorare? Io sono il piacere Scusa Scegli una di queste due Ma chi me l'ha rubata quella prima lì? Eh rubata via portata via rubata No voglio volere Ziracusa io Ziracusa No vabbè io ti vi Io voglio la prima La prima Questa qua è mia Vedi la prima dai Questa mia è la macchina Che cazzo è essere questa? Sì? Ok Puoi chiedere scusa signore E io andare Allora a più tardi Cosa fare signore? Questa è essere la mia macchina signore Questa è essere la mia macchina Grazie Ma? Uno ti poste a terra È normale Mi hai rubato la macchina E te rubavo Guardi la sua Ammannaggia il cazzo Qua mi rubano tutte le macchine Dove cazzo vado a piedi? Io mi sto già incazzando paese di merda America del cazzo Avere rubato macchine di mio fratello Quel signore trecino E scusi ma Da buon viaggio Dove io voglio guidare Non avere nessuna voglia di guidare E allora Vuda lei Cazzo sei Cazzo sei Perché abbiamo uno piantato dentro vetro Caro andare in altra macchina Ma Sono loro Sono i tuoi fratelli? Sì sì Quello è un po' casimistico Fratelli Ma parecchio Soprattutto quelle là Che urla Con quella Quella con la nota elettrica Purtroppo mio gemello Testo Di cazzo Ma dai Ciao Eccomi La macchina davanti Libero Si può sedere davanti L'altra macchina Come non ti fa più discord? Oh torni amore mio Quando torni Cingono Vai vai Guarda che macchina Guarda che macchina è qua Già siamo ricchi Pagani Sì me l'ha rubata Lo zio Mannaggia lui Dove dobbiamo andare noi Sacchi di merda Seguire l'Audi Ok Vai andare andare Dai amori miei Lasciamo un sacco di like E partiamo a bomba Ah mi sono dimenticato una luce Aspettate Mi fa fa un giro dopo? Balla Balla cattiva Ari Ekman Seguite Mi mancava una luce davanti Allora belli miei Buongiorno a tutti Come state? Buonasera a tutti Hans Quindi la porta della scala Ti sentono anche in piazza Mannaggia Cazzo Eh ma Eh vabbè Però Eh Hans Schnauzer Ma l'abbiamo preso Signore ma Tio fratello è impazzito Come guida? Sto andando rovinando la scena Ma quale scena? Non ce l'ho capito un cazzo io Talvone Non so cosa volevate fare io Talvone let's go Iniziamo questa maledetta nuova avventura Sempre a tuo fianco Certo amori mie Mi raccomando E quello che voglio Che adesso ve la vedete Ce la godiamo dall'inizio Tutta quanta La faremo un po' insieme Qua abbiamo già Io chiaramente Avevo già un sacco di idee ragazzi Ero già partito da tempo A programmare un pochino Quello che volevo fare Non vi ho mai detto niente Appena giusto Discord Rientro Ma come? È disinstall l'ora di starlo C'è un secondo Dai 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 Ti voglio conoscere stasera Come consuetudine In tutte le nostre storie C'è un portacuro Dal giorno 1 con noi Grazie amore Prego Mi devo aver salutato Grande grande Angelo Grazie di passare da tutti Bello E questa è una cosa molto bella Comunque Passare un po' da tutti gli streamer Poi è chiaro che ognuno Si segue un pochino Una storia Più dell'altra Però sicuramente Ragazzi Il bello di essere in tanti Alcuni streamer In una città Che si parte Tutti quanti da un qualcosa E voi potete seguire Varie sfaccettature Della storia della città Perché poi questo è Il punto Questa è la Mia Ferrari Ragazzi A noleggio Vabbè Questa sera Signore Ma lei sa Cosa Stiamo andando Io no È una sorpresa Anche per noi Curiosa Do Ma guarda Che bello Questa città Perché Ma perché Entriamo dai marciapiedi Con le Ferrari Noi Occhio Facciamo un giro Prego Scendere Signore Bella Antonio Petrus Giuseppe Angelo Paul Jerry Aldo Giancarlo Grazie per i like A tutti ragazzi Buonasera A tutti quanti Come stiamo Mi portate quella Carte macchina di Grigge Amico di Michael Schumacher Ma tu essere amico Di Michael Schumacher Non essere Michael Schumacher Il tuo soprannome O ti farai chiamare Hans Mi hai insegnati male Allora Lino Io stavo un po' pensando Ragazzi Stavo pensando sempre Ad Hammer Voi che ne pensate Sicuramente Aiz Alla mia clan Eh si Camina troppo In un attimo Trecento No aveva la Quella la elettrica Eh non avere freni Come si chiamava quella macchina tua di merda Lì Mai dire Mai dire Quelle mia Testa di Funsen Come si chiamava Come si chiamava Come si chiamava Che sei da Non dire Non dire Funziona Che cazzo A essere Funziona Non lo so 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 Lo sai che io sono stato Con mamma a Napoli Ecco Avete Sicuramente Come dire quella parola napoletana Tu si Una mala femmina No No Lui 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 Fratello Tu gran tu scema Ecco No Come scema Abbiamo fatto tono scemo Gross 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 Tu sei scemo Ede Ete Dai 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 E' Si imparere E' Di riuscire a fare Tu vuoi essere più grande Ma io più violento Eh Questo è il primo locale della città Mi piace seguirevi tutti Grande 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 Fiche Fiche Che arriveranno piano piano No Lui diceva Fiche nel senso bello Eh si Fiche 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 No No Pensava che ti piaceva Fiche No Lui Mi era piacere Fiche Lui Sare un po Gaio Signore a me non piacere Fiche No no A lui piacere quelli come lei Con collarino e capelli rose Qua di fianco venite Venite qua di fianco Che c'è un altro Bello Come hai fatto Come mai quello lì Sparisce sempre Beh i capelli Vabbè Grazie In Francia Sembra un pochino Mia basur Di letto Chi Io Lui Tenne attenzione Posso rubare l'orologio al fratello Metti la torcia in faccia Chi è che rubare l'orologio Le cene rosa No io no 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 Lui è francese Sì Voi ancora non avere detto Ed Schumacher Salutami Hammer Cioè Chi siete Che Che siete Fransuaglio No capire Saluti Hammer Anca a Sir Eh Sirast adesso non è con me Appena lo trovo Lo saluto Noi siamo delle persone Che Conoscerete presto No Io spaventare allora Volide Forse La testa volide Siamo che avete detto Chi Questo Forse A tu conoscere questa persona No Tante pittaci Nessuno ci conosce Signore Salve Salve Beh i capelli pure questo Curioso qua la gente Adesso li metti i nuovi macchini Adesso Oh Io conosco una ragazza Questa è macchina mia No Questa non è mia Hai chiuso quel locale Ma E' un altro Non c'entra niente con noi Salve caro Buonasera Salve signore Come va chiamare lei King Piacere King Si Piacere Hans Hans Schnauzer Hans avanza le crede Hans Schnauzer Hans Schnauzer Come cane Schnauzer Ho capito Come stai bro Tutto bene Troppo bello vero Dire la verità Troppo brutto invece Pare sono al matrimonio Dove stai Io essere persona molto rispettosa Rispettata Rispettante Rispettoso Non abbiamo tutta la sera Dimmi caro Hai bisogno? Non abbiamo tutta la sera caro Cosa ti vuoi fare? No Volevo farti vedere un po' in giro caro Dai Ah ok Allora prendiamo macchina Prendiamo macchina Questo essere un uomo curioso Con capello rosa Che Avere assunto Per farci fare il giro turistico Di città Tesla Tesla Una testa Non è la Tesla Come ti chiami in questa V4? Hans Schnauzer Mi chiamo Francesca Anche qua ci facciamo male Allora Hammer In questa città Ho già una proprietà ragazzi E non sapete Non potete immaginare Quale Ma Un pezzettino per volta La vedremo Andare avanti La cosa Ok Non vi voglio dire Cosa di botto Bungalove Bungalove Ma sì Ma tutti quanti Penso Guarda che carino Ma tu come cazzo Con chi parli In radio parli Vatevi anche un giro Per questa casa Vi aspetto fuori Sì Poverni Bungalove Ok Va bene 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 Il nostro amico Dall'Italia Cappone Che è Entato in città Ha fatto un salto qui E tornerà Domani Giusto Ho capito E no Oggi giusto Così è venuto Per Si sembra Un po' di Pace Ha preso Ha preso Un aereo Si è siamato Un attimo Qui In città Si è siamato Un pochino Di tutto E torna Domani Ha portato Le valigie Ed è tornato Un attimo Della famiglia Ho capito Fatemi vedere Qua se posso Venire a scopare Con qualcuno Fammi vedere Cosa c'è Ma quanto costano Questi Bungalove Sono a pagamento Come sai Qua c'è il pacchettino Con un po' di code Che poi ti spiegherò Mi hanno proposto Ma io Ho comprato cose un po' Migliori per noi In questa città Si ma scusate Ma scusa Ma qua ci possiamo andare Abusivamente Perché devi andare a pagare Perché poi saranno Tutti chiusi Si da paura Ecco il solito porco Lei è quello porco Che mi avevano raccontato Sicuro Lei è maiale di città Ma io è maiale di città Ma anche Uomo che le para culo Signore Lei para mio culo Eh sì Ma io volevo rispondere Lui il suo culo Ogni notte Come poi Puoi essere Io non volevo sapere Che cosa fare Tu non Te però Eh Good morning Grazie Come ti chiamo Ciao cara No alve come franzi Io essere Non siamo Non siamo insieme I noi streamer In teoria Almeno io Non ho voluto stare Con nessuna parte Che con E con E lo zio vivo Comunque Non c'è nessuno Più bello di me In questa città Fino adesso Siete tutti Bellotti Quindi si randerò Come un Ricieto in calore Signore Ma guarda Sti due Che cazzo Stanno combinando Ah lo so ritornato Ma dove sto Signore se vuole Le pago una lampada La vedo un po' sbiadita Ma come Io sono svizzero Caro Lei è Vieni qui Ah si Come il cioccolato Cioccolato bianco Vieni Ho come gli orologi Puntuali Mezzo Puntuali E faccio Tic 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 Ah si Quando ho finito Io faccio Tic 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 No 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 Io faccio Boom 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 Andiamo ragazzi Andiamo a vedere Tu fai boom 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 Io faccio No ma guardate sotto Sì vedete l'acqua Oh ma No raga che figata Ma avete visto Sto buono Che bello Guardate tipo Stile Maldive Guardate che figata E non si fanno Pochi FPS Tu non scassare Ma io volevo fare una cosa Scusa Raga scusatemi Scusami Ascoltami E' successo un piccolo disastro Praticamente Stavo guidando lui Cioè stavo guidando lui E ha mandato la macchina Nell'acqua Però mi serve Ascoltami Ascoltami Una macchina Qualche posti Su va Me la dai Almeno posso andare anche Nella terra Nella terra Nella timpa Nella timpa Posso andare pure Allora Ecco Facciamo una cosa Andate indietro No no devi scendere Sì Sto parlando un po' Troppo Ok Chi cazzo è essere questo Che grida poco davanti Eh signore Non lo so Monetina Sei Ronen Cioè Monetina per favore Ah monetina signore Ferrari Ah ciao poveri Chi era Yoda Ciao poveri Che cazzone Ciccio Era Ciccio Giova Sì Mi è sembrato di riconoscere la voce Ragazzi Aspettacolo Dai Lo vuole quel palazzo Signore Lo vedi Magari un giorno Riusciremo a prenderci Lo so Tu vuoi essere sicuro Che io non avrei Già una casa lì Ah Questo io non saprei Eh signore Perché Sarei allontanati Da Dobbiamo È vero È vero C'è la nostra guida Tu già scassare un po' troppo il cazzo Secondo me Chi Mio fratello Sì sì Mi sembra un po' Uno Che rompe parecchio No quello è mio fratello Grande Non trattare male Ah sì Ox Dove cazzo essere Eccolo lì Mi ricordare Cosa fanno Scusi signore Signore Monedina Oh no Sbagliato Solo carta Carta Solo carta Aspetti Aspetti Tiro fuori il post Venite Arrivederci Arrivederci Carlo No No Ho lasciato lì Allora amori miei Comunque Non vi voglio spoilerare niente Quindi non mi fate domande Su Ma in Italia me la ricordavo Un po' più veloce Questa Ferrari Non so Mi sembra Mi sembra un po' Una Ferrari Fasulla Non va molto veloce Siamo a 59 like solo Dai belli Pushiamo un po' di like Non mi fate domande Sul tipo di RP Che faremo Perché lo vedrete Giorno per giorno Allora siccome Questa è una versione Tra virgolette beta Dove Stiamo vedendo Un pochino Se il server Va bene Sembra ad andare Egregiamente Perché vedete Gli fps sono buoni Non lagga niente Non salta un cazzo Funziona tutto Come si deve Perché prendiamo sempre Un pezzo per una volta Fino adesso Tu quando si balla Una parte Che è completamente nuova Che probabilmente Nessuno ha Non ha mai Crashato Team speak Questa è una cosa Molto buona Cristian grazie mille Alessio grazie per i like Grazie Vicky Grazie di cuore Raga Grazie a tutti Ciao Ti saluto Me ne sono Al ristorante Ok A dopo Buon appetito Marcone Buon appetito Bello Quindi Tutte le cose Che abbiamo Implementato Per noi Per la nostra fazione Non le abbiamo Ancora prese Cioè non le abbiamo Ancora acquisite Non abbiamo ancora Preso la casa Il posto di lavoro Che sarà E tutto quello Che sarà Ok Sarà È tutto un po' Una prova Stasera Per vedere un po' La città Conoscerci in giro Con la varia gente Tutto quanto Ok Devo fumare Raga Quindi Non vi spoilerò niente Perché se no Man mano che vedrete Le cose che faremo Non le apprezzerete Come quando le vedete Di colpo Che vi arrivano lì Aspetta Chi sta la macchina Con l'altro fratello Non lo so Se c'è il radio Diggielo Che stavre Bella Massimiliano Grazie per il like Benvenuto caro Che hai in macchina Stasera vi facciamo Vedere la città Tra l'altro Il logo nuovo Grau Che sarebbe Quello della V4 Su in alto a destra Vi piace Datemi un po' Di recensione Sul nuovo server Ragazzi Per me è importante Quello stasera Sapere da voi Se vi piace Quello che vedete Sei l'otto Sì Essere mio fratello Otto Con macchine elettriche Chiaramente Abbiamo delle macchine Che adesso Vabbè Per stasera Tra virgolette Sono a noleggio Ma Sono Sono molto belle E comunque Le auto le avremo già Quello È una cosa Che vi possiamo spoilerare Qua ci sarà anche Il tabaccaio Dove potrete comprare Le sigarette Tutto quanto E' chiuso Qua ci potete comprare Telefoni Tutto E anche cibo automatico E' chiuso adesso Il tabaccaio Sì ma È chiuso È chiuso Ma Lo vedete Ma non influisce Adesso Ma io Volevo a comprare La sigaretta Anch'io Avere tanto voglio fumare Uno cigarro Io Avere Ehi Ehi Molto belle Le torri Le torri Non le abbiamo ancora viste Sono spettacolari Raga C'è tanto da vedere C'è tanto da vedere C'è tanto 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 Anche io ho il lavoro Molto molto paccare Sì paccare un po' Quindi I lavori quelli No Quelli che Vai lì Lavori E te ne vai Quando cazzo vai Con lì in nero Guarda Il cavallo col Profissimo Col proccione sopra Dove sei? Non l'ho visto La statua Come cazzo andare noi a sfighettare Con queste macchine Se avete bisogno di telefoni E tutte Ecco dove comprare Con cazzo che compro telefoni No io cazzo Devi prelevare prima Devi prelevare se non c'è soldi Devo prelevare Eh devo mandare in banca Coscono sette cacca Sette cacca Devo andare a comprare Prelevare dei soldi Io ho spero solo un mastercard d'oro Ma io Ma dove cazzo sta l'altra macchina Lo cazzo Ma sto cazzo Oh cosa è impazzito Ma Quello è l'elettricista Quello è uno che stava facendo un lavoro in WL Mi so che gli hanno fatto la chiamata L'elettricista Era di corsa ragazzi Non andava a giustare le tubi Ma come Questa nuova storia Oh E niente Tu fratello Salve Scusa Fratello coglione Te lo domando Ma il numero di ora Non me lo ricordo Che sei sul numero? Io mi chiamo Hans Schnauzer Questa macchina di merda Uno svizzero ragazzi Sei anche a scazzo guidando cazzo Che cazzo state facendo? Ma che ne so Tu fratello un po' così Mi troppo una macchina Io le mangio in macchina Ma io tanto ne ho Ah dovrei prelevare per Sì mi leva Vai sto io in macchina Grazie per l'auto caro Grazie caro Grazie Importata da tedesca Ma io non volerei fare conto a questa banca E dove? Andare a banca centrale Salve Che è che mi dà un passaggio alla banca centrale? Buonasera Buonasera signore Sottolemoni Sottolemoni Ho detto un passaggio? Sì grazie Gentilmente Eh purtroppo a Ferrari due posti però Ah ma ne è rapina Sì è una rapina Ah salve porca puttana Spostare Spostare Qua c'è troppa gente Ma che macchina hai? A che macchina hai? Aspetta che ti ripunto anch'io Aspettare Il nome di ora è definitivo Sì 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 Il nome sarà quello Per questa V4 Fino a che rimaniamo in vita Sì Roby Ma che ruolo Eh la milizia ragazzi La milizia è È un ruolo molto importante Che Praticamente Mercato nero E E anche questo È una cosa raga che Non vorrei Spoilerarvi più di tanto Ah io faccio conto Io fare conto qui Fare conto qui Questa ragazzi È la Pacific nuova Mi piace? Allora Il sistema di banca Qua è Allora Preleva Porto 10 Ma facciamo 1000 va Iban Tutti uno Via Il pin E questo qua Ok Bello anche La cosa della banca Eh Avrei prelevato 1000 dollari Come 1000 dollari Sono pochi? Eh sì 7000 Signore Ok Ok Avrei prelevato 10.000 Ecco Si ricomincia più forte Di prima Sinceramente È una bella città Sì è molto bella Questa è la Pacifica Ragazzi Avete visto che figa Che è È stupenda Come dice Qua giù è la Pacifica Sì è molto bella Questa cazzo Seguitemi Ma Signore Lei è vero e pandino? Sì Sali Sì Sanno salto con i Ferrari Grazie No Non preferisce Pandino Va bene Dove vuole andare Vuole andare a comprare Il telefono io Andiamo Cazzo Bella Hanno rimesso La La 7 Ma Questo è Mitch No Quello lì è Salva Salvatore Il cugino di Alvea Il co-founder O un founder E Questo è macchina con me Ma Ammerone mio Ciao Marco Come stai? Tutto bene? Mi raccomando ragazzi Da adesso in poi Vi voglio qua Impegnati Tutte le sere Come un appuntamento Di un telefilm A seguirvi la storia Sera per sera Perché sarà una V4 Stupenda Dove abbiamo Una storia improntata Bellissima Da farvi vedere C'ho tutto Una roba nella testa Che mi sono studiato E secondo me Sarà molto bella E saremo comunque Come sempre Vorremmo essere qualcosa Di centrale Per la città C'è qualcosa dove Ma tu Vuoi essere ubriaco Caro? No No Eccomi Ha visto Spampare Un po' Che casino Di gente Che c'è qui Già Oh sto molto Traficato Gian Mario Salvatore Grazie per i like Grazie Marco Natalone Nappa Grazie mille Grazie a tutti ragazzi Dove comprare Il telefono Signore Buonasera Ce l'ha con me Per caso Lei ce l'ha con me Buonasera Per caso Dove comprare Il telefono Il telefono Di sei Venga qui Venga qui Signore Mi segui Mi segui Mi segui Abbassare la zona Grazie Voglio Cazzo Ma che 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 cazzo Compa Ma che cazzo Dove cazzo Compa Telefono Quello Entro qua Qua Ciao Ci sei Qua Soprano Pado Cazzo Viola Qua 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 Grazie 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 non prende cosa? appena il telefono senza sim funzionare? si perché è incorporato è una Apple grazie molto gentile grazie mille arrivederci Ann Fiedersen poi c'è anche la radio che figo lo smartphone l'iPhone ragazzi il telefono il mio numero dove cazzo devo comprare salve signore buona sera tu sai avere soldi per me tu devi andare a prelevare soldi no io non prelevare un cazzo tu devi dare soldi a me devi dare uno schiaffo se vuoi vuoi fare la botta subito così? no c'è l'occhiali mi cadono allora mi dia soldi subito che io potrei farle tanto male se no devo fare male a me? io ti spezzo noci di capocollo lei non sa neanche spezzare noce neanche noccioline ma io dover parlare con una ciabatta con questa camicia di merda? salve signore eh beh a questo negozio dove ce l'avrà qualcuno giusto? no puoi comprare il telefono qui ah quindi da solo senza nessuna commissione no prende la vetrina mi passa Bancomat e esce il telefono è tutto automatico è stato con il suo paese ok ciao piacere ragazzi io mi chiamo Schwanskopf non ce ne farei con un cazzo come si chiama lei allora lei come si chiama signore? 700 grammi di telefono Hans io Peter lei come si chiama signore? io Gretel piacere Hans Gretel sono serio? hello Peter no hello e ciao in tedesco ah hello io Gretel ma io mi chiamo Hans ma non hallo scusate gregi signori e gregi ma sapete perché non funziona la sim io la metto tutta dentro al telefono ma non va lei non sa impiegare bene la sim scusate c'è un manco ma tu qua no deve andare a creare conto in banca e poi per le lavare signore ma ma può costare molto cara qua la vita ascolta bella chi ci ha 2.000 contanti eh certo signora lei ve ne restituisco 5.000 eh non ce li ho dopo questa commissione io aveva un problema lei aveva tanti problemi come cazzo fai a vedere il mio numero di telefono buonasera buonasera vabbè devi farmi conto rivederci formula 5 non scrivete formula 5 lei andare a formula 5 chi è questo che mi sta rubando Ferrari scendi da macchina sono io sono io ah lei formula 5 gestione sim eh eh ti dice il comando non valide quello è un problema eh sì perché io non ho sapere il mio numero di telefono ah bella iatanda sì sì adesso spiegare io allora tu prendere i sim questo qua vuole portare con noi chi? signore con camice di merda signore? eh salire mettere in mezzo ecco bravo allora praticamente fermi fermi ci siamo scantati con alfone cazzo ah quello simpatica ya 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 anche anche e devo sapere e sali fratello ah il tuo fratello è quello? sì questo fratello brutto dei due gemelli è brutto la mafia lenta brutto la mafia lenta scusate ma dalla cento voi venite dalla germania svizzeri però ah svizzeri cantone cantone tedesco cantone cosa intendere cantone questa trappa lo trovi lì cosa? salva allora devi prendere la sim ok mi sosteniamo grande grande roberta mi sta seguendo bene carissimo ma te come stai finalmente finalmente mi trasferisco per lavoro a Parigi non ce ne serve telefono grande Marconel mi raccomando mi devi guardare anche da Parigi e condividere da Parigi che ci vedono in Parigi va bene almerone ciao Franci come stai? anzi se lei dice non servire telefono io non direi come usare mi apri il telefono e caricare in basso noi in Germania usare molto bene il cellulare va bene mi fido mi fido signore abbiamo inventato telefono Nokia allora aspetta andiamo sì allora in basso a destra cosa c'è? è una Germania quello mica come svizzagland svizzagland hanno solo caramelle ho trovato come vedere il mio numero di telefono mi hanno consigliato nella mia testa impostazioni e vedere tutto e quindi la sima che cazzo serve? è comprato per niente a un cazzo servire signore quindi buttare via i simi di merda no 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 non buttare non buttare non buttare allora io perché scendere questo? oh caro questo vuoi dire a fare questa macchina io sono mancare signore ho mancare ho prestito mi fai un prestito certamente 70 milioni però c'hai davanti uno un bancario gli chiede i 2 milioni che piccolare di merda infatti ha di un miliardi a me basa 2 milioni basano 2 miliardi 2 miliardi venite poi in banca ne parliamo se quando vuoi essere referenza questo è qua poco con mancandabile brutti ceffi da ripetere i tatuaggi signore buona v4 si ho visto 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 in posta destra salva eh ma non so se avrò abbastanza soldi dietro eh vabbè c'è che essere banca qua fianco alvaro borata grazie per il like debora leonardo luigi antonio alessio grazie per il like gledis franci grazie per il like a tutti raga allora braccio destro io non avrei soldi neanche potrei spiegare ma io adesso bucare ruota casino ma questo non è mio fratello mi afferro schiena cosa hai fatto cosa hai fatto mio fratello dare mio fratello subito oh finalmente ho otto dove stai otto ah è qui si è salvato mio fratello dove sta otto abbiamo perso otto signore otto dov'è che cazzo essere otto eh non lo so gli hanno rubato l'auto gli hanno rubato l'auto essere tutto giame gemello beh ma te tu oggi vedere un altro momento non ci voglio te l'ho trovato chi sei io ci vuoi rapino ci vuoi no ti alzulemon non ti prego non mi rapino ti do tutto ti do tutto oh e mezza mezza come si fa la lenta ti tieni a cotte non mi ti rubati prego mezza dimmi come si fa a vedere la radio con la lenta cosa la lenta la lenta eh il muscolo ci rifacciamo un'altra volta che ne vedete qual era dove cazzo si è finita la radio no hai crashato la lenta eh il muscolo che scendi non lo so quale scendi ah eccolo guarda voi avete una radio signori si certo certo ci ascolto la musica io non avrei comprato niente né telefono né radio come cazzo si attiva la radio allora lo vede quella rotellina sopra tutto sono vicino l'antenna a destra proprio sopra la radio si deve ok e ora ci eh però qui deve essere troppa gente si infatti andiamo un po' fuori che questi non mi ha filo di questi siamo in radio 200 ora vediamo la radio ho scoletto il centro dell'8 no ok torna tranquillo secondo me sta check check e io non avere il numero check 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 andare signore provare un'altra macchina proviamo questo no 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 scendere da bella sta banca oh ma di chi oh signore signore ma ahia che entolo entolo così voler picchiare questa è la mia macchina signore ti fregono macchina fratello ahahah ahahah che è ti rubano macchina sì con quella lente signore perché scendere tutto quanto le cose signore che mucco lo metto io leggo dipende io ho messo la i arrivederci arrivederci premi alto vai entra dentro entra dentro oh guida tu così mi metto io dentro e dove eravamo prima mi metto io dentro vai 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 cioè vai vai no no vai vai tu vai tu eh no se vedevi un po' male vai vai no dove andiamo? io non l'ho comprato andiamo a comprare il telefono deve comprare il telefono erogato io sono stato tutto il tempo a girare a trovarmi a uno c'è chiesto di fare una gara oh l'abbiamo fregato stavo avessi a tutto stiamo andando al negozio di telefoni vuoi che ti aspettiamo lì? aspettare cioè manca un fratello qui all'appello eh dov'è? li hanno rubato la macchina li hanno rubato hanno detto che la segretaria sono i segretari oh i segretari di otto ma non è vero possibile io poi volevo andare in attimo al garage centrale e altro posto esserci torri nuove vorrei vedere sì sì abbiamo quasi finito la benzina comunque ma dai è vero 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 ma aspetta qua ma aspetta qua ma aspetta qua non lo fa andarla non lo fa andarla è qua davanti il telefono perchè va dove andate è qua sta andato laggiù perché no è tornato eccola ma che te si è fatto ruba la macchina tu non ti sentiamo 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 con se sei letto e' il primo all'angolo laggiù colorosa il primo il primo per il primo seno dopo volontari ora mi sentite ok fermi porca traia fermi fermi porca traia era mezz'ora che mi seguivo con cazzo di mini cazzo ma scusate a miniverde oh madonna rubato la macchina si me l'ha inculato ma io sa per chi è e io e noi pure lo sappiamo chi è noi pure lo sappiamo che ha detto che è la tua segretaria come usare la tua ma ecco le grazie per il like ferrari marco grazie miller per tutta la vita hanno fanta sul balconcino ma non ha rubato la mo ma ha rubato la moto come messere il mio caramina moto ma si me non serve un cazzo non devi comprarla ma come no e' certo che si sa no non c'è no non c'è il segnale e' invece si e' non posso chiamare dammi il tuo numero aspetta 5 5 5 5 36 no no 5 5 2 5 scusami il cazzo è incollata la macchina c'è 5 5 36 mi gioco la ferrari cazzo di macchina poi 28792 scendita la cazzo di macchine sentita la cazzina vada via il kill aspetti provo a chiamare io vedo se allora sono la polizia prima che si chiama la polizia perché mi hanno rubato la macchina è già una giornata di merda in questa città di merda guardami hanno già inculato la macchina fratello andiamo a uccidere chi mi ha preso la macchina andiamo 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 come cazzo il coglione che ti fai rubare macchine già tu no sono entrato per la guida 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 andiamo andiamo siamo andati in un posto no e lì sono dovuto entrare e la luce guida non parla troppo non si parla tanto andiamo andiamo a ucciderlo a cazzotti lo uccidiamo a cazzotti andiamo a romeria a comprare bottiglia c'è eh non ho pensi una porca puttana un'altra cosa di merda un'altra cosa di merda me lo do io un passaggio salite salite non lo vogliamo ma ma fa culo tu che cazzo questa macchina di merda dove ammetti dove ammetti andiamo non lo vogliamo il passaggio andiamo va avere 9 di benzina tutti i criminali con la maschera qua guarda tutti i criminali è uguale no vai vicina ti a questo ragazzo le dico due cose è uguale che è uguale ma io scusami ma io sono sentito io sono sentito da qualcuno che diceva che diceva c'ho mezzi ma già mi conoscono mannaggia santo dove cazzo essere distributore vicino c'è bella poca benzina dove sta l'ex una delle moto e mettete segno posso provare un attimo io che ho fatto il pieno madonna che testa dura sono 20 giorni che sto in sta città lui niente non credere a un cazzo di quello che io gli diria tutte volte eh non c'è posto qua ma infatti è giusto c'è così allora io mi sarei rotto in cazzo mi sarei rotto io voglio macchina mia eh per poter girare mi dissocio mi dissocio mi dissocio mettiamo le pute nel locale no mettila un po' di musica nel locale ce l'hai? si ma si cosa si cosa si non ce l'hai no ce l'hai ce l'ha andammo che ce l'ha andammo che ce l'ha porca puttana andiamo maledizione mia macchina muscolo city car ma come la gente caccia le armi ma già c'hanno le oh ma sempre tu ma allevate allora vado con lui io ma ci sto qua dentro venti giorni essere qua dentro venti venti giorni che sono in città ragazzi a provare e abbiamo fatto prove test su test e cose su cose niente lo zio capo che ora dura eh no ma cacca quest'anno è un'altra cosa che hanno fatto realistica nelle macchine rispetto agli anni passati raga che praticamente sei chi tipo la macchina è senza benzina è la macchina che è senza benzina dare spinta dare spinta dare spinta a lui con benzina dare spinta ma? che cazzo succede? ah mi sono caduto le corde cazzo avevo appena detto che andavano bene in speak continuo a crashare sto maledetto sai perché non va con la chat di gioco? non si può provare a giocare con quello ma rivederci vai a piedi ok rivederci andate a fattore oh quello è giusto fare ma è un altro tedesco guardiamo difficile mi dottore di merda ma sali e sali nella macchina che ti spingo che la portiamo a mettere benzina sali in ferrari oh te stai dipartendo mica dietro lì a destra e a sinistra dove? a sinistra ma io non le vedo non mi muoiede da qua eh non mi muoiede da qua eh non mi muoiede da qua però me lo rompi lo ferrari cazzo non si muove ferrari di merda piandato per terra ci penso io fermi ma? ci penso io dai vai dai 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 carai centrale sali sali ah che cazzo è questo individuo biondo come noi ciao folla eh c'è ma fanculo che cazzo era questo a garage entrare c'è franchino che distribuisce cibo hai letto? si fregare cazzo non è di cibo andare cosa dobbiamo fare? andiamo le... andare a garage entrare a prendere cibo ok ok raccattiamo raccattiamo fanculo io voglio macchina mia che sentite? fuck a dove state voi tedeschi? che... che... stiamo andando a garage centrale leite o noncio? ehm vaffanculo che coglione che me l'ho... assoluta macchina stiamo andando alla macchina di... vaffanculo eh vieni subito ehm io c'ho i poteri eh come me quando l'angeletto qua vengono il cibo ma dov'è? mi hai dissociato hai dissolto eh rotto cazzo tu inizi a stare un po' dentro poca traia vengono il cibo ehm ho detto di male vengono il cibo ci troviamo qui dove sei signor Franchino? molto lieto dove sta Franchino? dove sta? dove sta? dove sta? ehm praticamente io sono un ragazzo si rompe la macchina è un ragazzo fortunato ha detto che vengono il cibo dove sei? ha detto che vengono il cibo dovete vendere il cibo il cibo buonasera buonasera chi è che sta urlando? chi è che sta urlando? chi è che sta urlando? non lo so chi sta urlando è un ragazzo è un ragazzo è un ragazzo è un ragazzo che donna come si sente in questa nuova città? mi hanno già inculato la macchina signora mi hanno già inculato la macchina signora allora non si capisce un cazzo quei signori andate a fare il culo venite 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 fanculo al cibo fanculo al cibo ma il cibo dov'è? non è veloce si guarda l'attente mezzo se non è andati a fanculo allora salve le signorina fanculo al cibo fanculo al cibo fanculo al cibo ho detto tutti che c'era cibo non c'è un cazzo qui ah ok ok va bene buonasera i'm fiddersen i'm fiddersen i'm fiddersen i'm fiddersen ahia gli occhiali ma non cazzo tu mi è il napoletano adesso buonasera capicazzo vabbè andiamo andiamo già andiamo mi ha rubato la macchina testa di cazzo lei allora niente ci sono venuto per ma ci cazzo gli occhiali pezzo di merda eeeh 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 lasciamolo qui lascia la terra mezza morto sto coglione testa di cazzo testa di cazzo come come avere rotto il cazzo mi esce il napoletano due cazzotti di sdraio eh eeeh poliziotto vada a fare in culo anche lei eeeh eeeh ecco gliel'ho detto eh mi fanno incazzare pisto tutti questa cazzo di paese di merda eeeh 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 ah e questo che era centrale per loro allora ma parca troia questa non è il centrale vado l'inizio eeeh 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 grazie eeeh annare al revistere averte venti buy money serpente eeeh eeeh uno eeeh ha bene terzi eeeh comunque c'è solo pure distributore r due gioco photo r air agli albato posto di a lei signor a presto grazie grazie so se spieghi come si chiama questo è il primo allora lascia la mia macchina io lo so che lei so mio mio cugino bella vera già compra che ti butto eh boh m***a 2 40 2 50 ho preso va beh ma permetti per casa sì grazie mille grazie mille grazie buonasera signor buonasera 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 grazie mille per la pizza grazie signor buonasera buon lavoro grazie a te a te madonna da oh mi senti l'ho cercato ma tu pensi davvero che mi chiamo giulio mangiato amo per apprendere da mangiare adesso sia te lo faccio da 4 4 si ho molto bravo quindi aver appreso da mangiare qui adesso stiamo andando via andiamo fuori da qui perché c'è gente del cazzo che cosa ho messo paura l'ho anche qua anche qua in seguire in seguire questi a noi si in seguire in seguire no sono e mezzi e mezzi e mezzi mezzi e mezzi e mezzi lo puoi in questo battaccio maledizione si segue si segue come cazzo pare aspetta no andiamo a vedere proprietà che tu aver comprato provo ad andare a vedere il cinema che si oppla allora dov'era l'appartamento l'appartamento bella alpe ma non sono alpe si era il paninaro giusto c'eri anche tu viene aggiuntato oh ci ho volato 9 di benzina anche questa no eh aaaaa cos'è che hai preso detta di cazzo eh adesso rimanere così ah già cazzo questa questa città aver rotto i coglioni ma aiaiaiaiaiaia che sta oh no mi ha rotto il coglione è stato è colpa loro coglione sacco di merda ah sei tu allora coglione due volte coglione due volte tutte cazze ad andare dai ragazzi che siamo a 79 like mi raccomando tutti quelli che entrano lascia solo un bel likeetino alla live Ti hanno incollato anche la macchina a te No io andare a prendere il benzina e non avere soldi Vi facciamo vedere un po' la città Vai alle torre vai alle torre Dove sono? Vai torre 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 Ah quella che adesso è essere stati allora Venire con noi venire venire Vai vai Portare torre di primo No questo è mio fratello Ah ok vero 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 Chi voleva sparare quel mezzo a secca di lì a me eh Beh si forse si chiama a mezzo Guarda la torre oh guarda a destra Sì Quanta è grossa Mamma mia Sembra dildo di nonna E il coso dov'è il Lux? Dov'è? Il Lux sarà penso su Vedi quello tonto Quello tonto Ah eccolo eccolo lo fetti Lo fetti No Guarda è in cima a questo palazzo quadrato con la grande Con il triangolo Su Dov'è? Sinistra o destra? So sinistra Mia sinistra Palazzo con freccettina Sopra in alto essere struttura penso Dici essere quello? O quello tondo vedi a destra A destra di quello lì Ah guarda c'è altra torre lì Vai a quella torre lì a sinistra Quella a sinistra dove essere nato io cazzo No Cioè arrivato io scusami No 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 Quella dove essere arrivato tu e quella a destra Quella a sinistra è quella dove dover comprare forse Capisce a me Aspetta un attimo andare Scappa da lui Eh sono quella tedesca Sono una tedesca O stanno vendendo armi bianche al civico 612 Andiamo a comprare Avere ancora 4k in tasca Sì Andiamo a comprare Andiamo Continua a chiamare ma avere rotti i coglioni Metti il civico Metti il civico Dove? 612 Metti il telefono Chi essere? Da? Ma siete persi? 612 andare 612 Ah non era il 209 le torri? 612 andare Vediamo No ma dove siete? Qua Emma si è trovato a parlare con i servizi qui Sì ma sta parlando Io mi ero 612 E venite a prendere Dove sei? Al fave Al gara centrale Ok Girei no Ah re Oh 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 Ma dove siete insieme? Dovendo a centrale E fino a ora Da là Eccoci Può a centrale Qua Ma ok Parizzotti di mentale Eh grande Speriamo non chiedere a noi patente Cazzo me ne frega della patente Dover fare patente Spiricano E lo so Ma spiriti corrotti Spiriti corrotti Guarda Non quella Non quella torre No Io andare 612 612 Mica Guardate le torri che belle che sono Guardate quella là Dietro ragazzi Con la sinistra là Quanta è grossa Ce l'hai una maschera? No Ottimo Cosa fare con maschera? Cosa volere fare con maschera? Ma cazzo Sono da tua parte sbagliata Questo 199 129 Carca puttana Ti faccio un goccio d'acqua Arrivo ragazzi Facciamo partire subito Rissa da bar E accoltelliamo subito Due o tre persone Cosa ne dici? Da Sada Beviamo un po' Ma tu ho comprato Ah no Beh Dare franchina Mangiare bene Gero No Ah questo è quello Dove metti Ok L'inventario Più o meno L'abbiamo capito In pratica Solo la Shanghai Tower E Bruce Carifa Esatto Sono la Shanghai Tower E la Bruce Carifa Bravo Anto Sono proprio loro Le torri Sono fighe eh Raga Sono salito realmente Su tutte e due Cazzo Grande Quanto sono altre In real Anto Saranno bestiali E' essere pronto fratello Dobbiamo contrattare Dobbiamo contrattare Contrattare? Si Non abbiamo molti soldi noi Proviamo a farcelo dare Per vederlo Lo accoltelliamo Andiamo via Sì Siamo tutti Allora dove siete The Desken Andiamo Dove siamo qua Per il cortello Siamo a 6-1-2 Arbi bianche Siamo a 6-1-2 Non ci sto dal molo Si può ci stare Sono arrivati Che c'è No no Stanno arrivando i mafiosi Qua io ne vado Dove essere i mafiosi? 828 metri La Bruce Porca troia E' in cielo Per dire Buonasera Ecco c'è Salve salve Ce l'avete fatta? Chi è che vende le armi? Ma che vende le armi? Ma ci stavano i Ci stavano in Maranza Ci stavano in Maranza Che dicevano Ma volete coltelli? Non c'è nessuno che vende le armi In questo posto di merda? Si Signore primo Voleva vende le armi Colore Com'è white? Ah bianco bianco White White Io ho bello che siete Cazzo siete persone di alta puna Porca puttana Ma che siete Buonasera Io ho specie in doccia Ok ci becchiamo più tardi Lei parla tedesco? Io li mangio e basta i dolci Che cazzo è il tedesco? Aspetta gli faccio una bella foto Ti faccio una bella foto Chi a chi vendrà Armi? Faccio una bella foto Aspetta Perché quel signore camminare Senza quanta due Ma va nudo Tipo sta Guardatello non mi guardare l'uccello però Frattello 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 Hai ritrovato Matti Che cazzo mica diceva Nove di benzina anche qua Ma che cazzo di sfiga Ma oh veramente No 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 ragazzi Ci togliono Non si può Non si può Non si può Non si può Raga Non si può Mi sa che un po' troppo Puffi La vogliono allora le armi Puffi Andiamo va Ma che è sto fallito che parla Andiamo va Questi qua fratelli Ventre le armi Puffi Andiamo questi Ragazzi Ragazzi Vengono le panane Ragazzi Che vuole questo Ragazzi Non avete capito Se non andano in giro così E' fatto Ci prende Ci toglie Tutti dalla macchina Ogni volta Orca traia E poi la cambiamo Una volta che fa Ci la cambiamo Si toglie I puffi I belli rossi Puffi Ragazzi Volete Ma scusa ma che ci porti dentro lo borzello Lo computer Cosa cazzo volere tu Ma vedi di calma Hai capito 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 Cosa vuole tu Chi sono i buffi Chi sono i buffi Che cazzo Che cazzo 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 Animato Puffi Non ho capito Non ho capito Non ho capito Ma non ho capito 3 butto a mario bucce attraverso i carabinari pubblica ma scherzate un po' saranno aggressivi i buffi, attenti su mazzolo mazzolo una chissà contro i buffi e che succede? vogliono pullapparvi vogliono pullapparvi ma chi è? chi è stare a napo questo? dove cazzo è stare? si fa che il telefono in bocca ma lei si vuole una chitarra elettrica o metodica quanto canto sei bello grazie grazie la leggera naro che mi mette sotto sopra a pulire con me è stato essere amico mio mi chiamo Aizze e Mani Aizze e Mani Aizze di nome o di cognome? buonasera ragazzi buonasera signore io vendo le mutande di mia sorella bello le vende? si le foto dei piedi a 5k foto dei piedi usate 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 con scommando 5k alzo a crapo ma ancora qua in torno questi quattro ma vi hanno fatto con lo stagile aiutare 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 con lo stagile chi mi ha detto che lei lei è coglione che devo salire nella mia macchina prego prego grazie di morti arrivederci signori cazzo da spazio il primo figlio così oggi abbiamo dovuto riconoscire eseguardo da tecnici a cammella ma tu faci un attimo senso ma non fa un conto di teatro merendo il tempo io ma cosa faccio perché noi ci siamo attacchi avanti per favore ma caldera la ciavera anche per ora che cazzo in parte che senti a parlare amicare annullo non è vero ma come no 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 è un vero carlo non è un problema non so l'anno stato e ma bro la shanghai 632 metri un po' più bassa la shanghai beh però è bella lo stesso sono tutte e due molto belle le città ragazzi ma come è ancora lì cazzo in 80 like ragazzi dai metallaro tedesco chi è essere metallaro lei è metallaro tedesco che mi riconosce io prima ero venuto a fare l'emosina per attirare vostra attenzione e voi l'ho cacato me io vero è molto riso andiamo a comparci l'armi in bianca cosa dovrei fare l'armi in bianca non vorrei che c'ho fai cazzo e dopo armeria dopo è l'armi in bianca vado alla macchina vado alla macchina ma se la vedo la patente si si cazzo mene fregando che non ha la patente qua no cazzo no 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 io 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 essere fratello pazzen qui è essere gioielleria te tesken te tesken te tu non regala calare rolex dai non fare cazzate non fare cazzate dai che è che doveva regalare rolex dai e belli mi raccomando facciamo viaggiare un po' di like fate i bravi eric otto otto solo otto eric io lui otto e l'altro siamo tutti schnauzzer hans 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 ma come vai a pagliare perchè noi essere schnauzzer anche anche essere fratelli schnauzzer noi morti provare questa macchina macchina ti merdan ma stanno hanno allarmeria caro piada posso avere visto grattacielo 209 è quella casa mia quella è dildo di nonna sembra dildo di nonna no per favore non l'offendete tutto tutto dalla cima ai piedi dal fondo all'alto e dal basso all'alto bello anche quello ragazzi uno che rimanga con la macchina ce l'ha in culare ce l'ha in culare unito è fratello mezzi mezzi sei un cornuto mezzi vado 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 comprare quello vado vado andate dentro andare a vedere come essere cose qui ragazzi vado ricordate quando era nostra la armina 200 mi vende fuori un azzurri coltellino coltellino 10k me lo diamo come provo la benzina no fratella andare via fratello fratella dove cazanare davo lindy mamma che zinca che cinquanta siamo qua dentro io ho 9 di benzina anzi no un quarto di serbatoio sbocco siamo dodici questa macchina l'alberi belle donne andiamo a fare il giro qui zexy woman madonna non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è tutto vuoto è appena iniziato tutto un po' di bocchialza ci vuole un po' di bocchialza ci vuole bello anche questo essere nuovo ha fatto bene ma grazie qui c'è essere tavolino ma io non vedere ora facciamo lo spettacolo che schifo che schifo non vedo le scale schifosa non mi caricate le texture qua eh devo ricordarmi di dirgere non vedi i tavolini check check vanilla check vanilla vanilla nessuno che c'era già c'era c'era ragazzi credento pericolata no poter essere che io volerò la macchina mia ma va ancora quella inculata me ma vabbè andiamo a vedere torre quella bella ah quella mia qual è quella bella quella alta alta no quella avrei già vista l'altra scusate un po' scusate un po' oh me sentite? aspetta mi sentite? ah è dietro di noi guarda guarda verso alto dietro di noi a me mi hanno tirato una bottiglia io me lo posso ricordare si ora certo certo destra destra questa torre è storta dai io ho essere arrivato qua lì destra qua io ho essere arrivato qua ma è proprio storta sta torre ora guarda che figlia lecce guardiamo guarda romanzo il quattro qua 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 cos'è qua ma ma sapere non so il mio cui poterla poi entrare solo gente con molti soldi ma qui non entri e non cuore spatto se rubano macchina a bagliare sì sì sicuro ma questo è cassa angelo emmanuele grazie per il follower ragazzi benvenuti giù giù grazie per il like angelo roma benvenuto a bordo fratello benvenuto nella famiglia più maledetta di grau city cassa nostra bella wow guarda che mossa no non ricordo non ricordo ragazzi state calmi un attimo non ricordo se questa è cassa nostra ma com'è cassa nostra non so aspetta aspetta forse sì cassa nostra questi ragazzi che io ancora non conoscere tutti oh ma sei un grattacielo ma che è cassa non costa costa un miliardi che cazzo dite tu non capirei io essere pieno di soldi noi tre essere miliardari perché adesso povero mi dai un po' di soldi si però qua dentro mi giro la testa ragazzi se fai un servizio ti metto ma buono fa 40 fps che vami vedere ma ma veramente no forse non ricordo non ricordo ma non sa di sì oh guarda che se non è questa è bella quanto questa è casa nostra bella guarda che posto bella ah veramente ti piace mi faccio male ma raga ma quanto devi essere grande però per comunque sederti in questa sedia cioè ahahah tu non dovrei salire con piedi ma come cazzo ti sei seduto fin dal suo incocia di cane ascoltami dopo mezza giornata con voi avrei i coglioni talmente gonfi che qua ci starebbero benissimo è chiaro? io mi sdraio c'è anche panorama qui avere comprato bottiglia rotta? no non ce l'ho notata io la vorrei ma stavo a chiuso la macchina ma questo essere lino oma come che fate? ma da guardare no ma qua scusa ma perchè quelli c'erano le bottiglie rotte come l'hanno ricavate cazzo eh fatta ma c'è anche chi viene da un amore è stato eh dobbiamo andare a cercare altra armeria non ci serve mica solamente a noi non ci servono le molote non ci servono le cose mazze c'è due armeria diamo un'altra armeria dai andiamo frate andiamo di essere bloccato con soldi in mano perchè mi serve? mi serve sempre lo stesso fai eh devi devi sicuramente aggerà aggiornare il launch di GTA di Rockstar dai 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 ci vuole signore aiutato? si c'è un fratello tedesco no svizzero com'è non lo so che svizzero svizzero è svenuto? si è svenuto vedo la luce vedo la luce sto per arrivare la luce ma no qui è il lampadario che riflette nel pavimento eccolo qua ok oh ma questo ci segue ecco adesso avere problemi bello sei tutto sporco in faccia che ti è successo ragazzi chi mi ha mandato quella cazzo di richiesta e adesso è un problema diremi a dire devo parlare con lei in privato me? si signore posso essere un altro da svizzero? ma quel can can style ma che cazzo stai da camminando? ma che facciamo? viene con me dai andiamo un attimo a storia qui a destra a estra è un po' tranquillo vieni c'è il balconcino per sedere il poltrono è un po' grande ma o se no cos'era? vino va bene signore allora io adesso aver incontrato un signore molto importante mi ha detto che lui è il CEO di Grau City Life qua su e giù non so aver conosciuto chi? non so un signore molto importante lui ha detto lui è il CEO della Grau City cos'è il CEO? è l'amministratore delegata una sua azienda di merda mi ha invitato a lavorare con lui nella sua azienda io ho declinato l'offerta però lui è veramente una cosa molto molto bella lui ha radunato i suoi uomini si è fatto dare i soldi da tutti e si è comprato una casa una casa? sì dove adesso inizialmente può depositare le cose no? tu sei appena entrato dentro la tua casa? questa non è casa mia questa non so di chi cazzo è questa casa sinceramente però non me ne fai bene mia casa? la tua casa allora tu stessi benistante capito ma avere un appoggio? lei può dormire qua? nessuno può dormire in questa serata perché adesso questa serata è serata di beta non aver attivato un cazzo di niente a nessuno perché se no fare doppio lavoro capisce? ah ok capito quindi lei non ha bisogno di una casa se mettiamo soldi tutti insieme compriamo una casa non ha bisogno non dover mettere soldi tutti insieme avrei già messo io molto ricco mi fa piacere signore quindi mi può sganciare anche un po' di soldi al momento non possengo tutti questi soldi perché io come detto se non attivano tutto io essere come lei arrivato qui con i miei vestiti e basta i miei vestiti sono molto più belli dei suoi è una Ferrari un paio di Ferrari niente di più la Ferrari è molto bella avere veramente dei vestiti di merda lei no signore noi in Germania ci piace vestire così per andare a mare tu vai a mare in Germania? no in Germania sì non avere un mare in Germania ma un mare di merda un mare di merda c'è l'avere dentro tua testolina di cazzo secondo me no signore sei veramente un test di minchia può essere signore comunque mi fa piacere che lei ha già programmato tutto è una persona abbastanza sveglia grazie signore ma in tutto questo essere svegli andiamo a fare qualcosa di utile eh fare qualcosa di utile questa sera sarebbe veramente molto difficile tanto fatto che essere serata di test sì facciamo anche noi test su altre persone io essere penso cittadino più bello di tutta città però sinceramente signore mi guardi bene c'è un naso che fa proprio guardi me signore guarda molto bello giovane lei è già messo male lei tiene rughe come rughe che cazzo stai dicendo c'è le rughe lei signore rughe espressione ma sono rughe ma tu non vedere proprio un cazzo allora io lo vedo bene lei che non ha bisogno degli occhiali signore mi sta quasi venendo voglia di buttarti di sotto no no signore si stia pure calma non essere così non credo che sia anche tanto altro da morire signore eh sì quel cretino di mio fratello gemello si è buttato di sotto si è spaccato gambe guarda lì c'è da bere whisky no? whisky no? devo vedere qua com'è guarda che figata ah bello molto bello qua sì 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 molto bello adesso è un chardonnay voglio provare a prendere l'ascensore e vedere dove si va prendiamo l'ascensore e andiamo a vedere com'è dove cazzo è stato acceso è andato un problema andiamo a prendere l'ascensore e vedere dove va dove cazzo è essere ascensore che posto i strafighi che hanno fatto ragazzi il gg grau veramente una volta io che ho rimasto bloccato dentro oh molto bello eh non funzionare ancora mi sa come le dicevo ah lei voleva fare una cosa in ascensore com'è? oh volevo ma con lei vai a fare in culo mi piacere ficca ah lei piacere ficca ah ma scopo sta roba guarda che figa questa roba qua è molto figa madonna guarda qua dentro lei ha provato una cosa? che cosa? formula 10 ha visto? ma che figo versione cinema eh sì versione cinema dov'essero andati i testi di cazzo comunque dire ai suoi occhietti che non si dice IA ma IA con la J con la J detto da uno che cerca il mare in Germania c'è il mare del nord in Germania non sapere niente fanno anche navi in Germania io avevo una grande azienda in Germania che costruisce navi questo chi è essere? Alve? si era signore buona sera lei signora molto piacere piacere mio sono il signor Fox io piacere sono il signor Hans Hans da dove viene lei signor Hans? ha un centro molto particolare io sono svizzero cantone tedesco ah molto interessante come mai si trova qui? questione di affari signore ho pensato di portare un po' in questa città alcuni dei miei dei miei lavori ah molto interessante bene allora ci troviamo qui per lo stesso diciamo intento ecco lei chi è sarà? salve cosa fare di bello in questa città? sono un imprenditore mi sono occupato per un certo periodo di gestione di aziende ho iniziato quando ero ragazzino lavoravo in un'azienda che faceva gaming e poi ho deciso di investire un po' dei risparmi e diciamo crearmi i miei business ah ho capito le persone informatiche ma guardi diciamo che oltre a quello ho fatto anche altre cose la gavetta l'abbiamo fatta un po' tutti nella vita certo il mio primo lavoro era dosare i cani vabbè è un lavoro comunque dignitoso certo guardiamo mia paghetta avevo solo 16 anni vabbè comunque da un certo punto bisogna anche incominciare se così si vuol dire bisogna iniziare la carriera poi dopo 4 anni soli ho comprato un negozio ah interessante cosa faceva in questo negozio cosa vendeva lei no era il primo negozio di franchising che avrei inventato io io sono una persona che ha creatività fa girare molto i soldi e poi cambiare tutto e vendere tutto migliore offerente molto interessante ho capito il suo modello di business l'ho sentito parlare lui fare business col culo degli altri ha capito lui apre aziende agli altri lui guadagnare gli altri fare debiti ma guardi signore io non discuto i modelli di business che di fatto sembrano funzionali non posso dire di non aver fatto qualcosa di simile in certe occasioni sono modelli che portano siamo uomini di affari purtroppo lui invece era quello che lavorava con me dove si tostavano cani e sta ancora lavorando lì adesso che ha qua a cantarmi purtroppo non capisce un cazzo sicuramente il signore eccelle in qualche altra qualità diciamo sicuramente avrai i suoi pregi sicuro non è il vestito signore ecco il mio fratello essere arrivato non posso esprimermi ma comunque non è di mio gusto il vestito del signore però per carità ognuno ha le sue scelte ognuno fa quello che vuole adesso un ottimo progetto per quanto riguarda l'affari in questa nuova città adesso vorrò investire tutto il mio denaro qui sentire da molto parlare di me signore spero che possa sentire anche lei parlare di me dato che sto cercando di intraprendere dei nuovi business grazie di cuore bello grazie mille per il cuore per il mercato come federico grazie per il like Andrea grazie mille ragazzi anche la sigaretta non si voglia il business ecco esatto signore io ma chi che sta visitando anche voi lo vedere prima un pochino città e devo dire che è molto dignitosa molto bella adesso stavo cercando un pochino di vedere attività per pensare il mio progetto se è giusto per questo posto se non dover cambiare guardi io sinceramente non le nego che ero già in una semi transazione per diciamo farmi un ufficio qui in una di queste torri che mi piacciono molto diciamo vediamo un po' come va diciamo sei il proprietario dell'hotel qui non so neanche come la vogliamo chiamare dato che il signore me l'ha definita come un'impresa edile di diciamo di scala mastodontica ora io chiamarlo hotel probabilmente allora saremo vicini di ufficio signore mi fa piacere sempre bello avere persone aperte agli affari con una mentalità pronta al guadagno sono molto contento di aver incontrato il signore mi dica chi è che mi sta richiedendo il fattone il fattone ah non la vedevo mi scusi mi dica mi perdoni ma tu fatti una canna che non lo senti signore cosa mi dite di questa torre ragazzi vi piace non state interagendo niente stasera state solo guardando non vi piace è un business privato sicuramente che fa molti soldi il signore parlato di ufficio parlato di ufficio davvero se ne è un avvocato invece il signore era nel ramo del gaming come gli ha detto del tennis del casasco gaming 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 si diciamo che ho iniziato la mia carriera post laurea lavorando in delle aziende da gaming poi sono diventato un imprenditore ho deciso di spendere quel poco che avevo per creare non ti piace come son vestito ah produce i giochi sono belli dai guardate i personaggi come son fatti bene si si produco già qualcosa in stati esteri diciamo delle cose avviate adesso bisogna vedere se l'importazione funziona o meno da davanti guardate che bello e labbra e gli zigomi si fanno 25 giochi ah beh guardi se ne fanno un sacco basse guardare il telefono vedrà quanti giochi ci sono nel suo telefono disponibili sull'app store eh no la torre non è mia non può essere mia i livelli vede gratuiti ma le pubblicità pagano mi creda mi creda la torre non è in vendita sono vendita degli interni ma non ti spoiler niente facciamo un po' di cose anche sistemi di sicurezza non posso stasera ragazzi essendo una beta non abbiamo ancora nessuno di noi in città ancora attività e tutto perché stiamo provando la città se va bene ci metteranno tutti i job gli uffici le case e tutto quanto anche perché se se dovesse capitare che purtroppo la città dovesse andare male visto che è un server totalmente nuovo devono rifare tutto quanto porca puttana non ti permettermi di toccare le micchia capite allora per questo non hanno fatto abbiamo scappato capito 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 arrivederci arrivederci buona serata scappa scappa persone scalmanate ci sono in questa città ma si guardi ce ne sono ovunque dipende tutto da come le tratti e cosa li puoi dare in cambio anche la persona più scalmanata diventa un bellissimo angioletto quello è vero come queste signore di fronte a noi salve salve buonasera molto piacere sono il signor Fox mi chiamo Alfa certo no domani sera no raga domani sera è sabato sera vi ricordate bene invece adesso di cosa si occupa lei signore che business seguendo eh signore diciamo che voglio prima vedere bene alcune cose di questa città se poi decido di investire se ne accorderà sicuramente ah beh quello senza dubbio senza dubbio è un posto che mi piace molto però devo vedere un po' come commercialisti alcune cose che vale la pena investire tutto questo danaro mi raccomando sia attento agli interni eh se quelli la fregano sicuramente hanno il cartongesso e i muri non sono vatti bene adesso un consiglio che io le do date esperienze passate che ho avuto con degli immobiliari con delle agenzie che hanno voluto diciamo truffarmi il cartongesso non è mai una buona idea tranquilli in essere teteschi di svizzera molti precisi quindi guardare tutto persone che pensano bene prima di investire a danaro essendo eh ma signore i miei amici qui hanno un bel po' di soldini qui quindi a buttare tutti i soldi si per me sono grandi ma signore ricordatevi sempre che i soldi vanno investiti in modo intelligente averne tanti e averne pochi sono attimi signori i soldi sono un mezzo sono una corrente diciamo vengono utilizzati per creare un qualcosa ma come lei li ha lei li può perdere è tutta questione di dove li mette questi soldi e come li usa esatto io devo avere sempre fatto questo giochetto quindi volevo vedere se in questa città valeva la pena aprire attività di cui stavo pensando di mettere in piedi essere venuto qui a controllare lo sa che questo edificio che io lo guardo già da un po' dovrebbe avere qualche muro come le dicevo lei di cartongesso e per quello non mi convinceva vediamo se lo riesco a trovare io avrei fatto giro prima qui dentro ed è molto bello si si ci sta il muro di cartongesso venga venga io ho un occhio ho un occhio molto molto esperto nei muri di cartongesso senti no non è questo ecco ecco vedete cosa lo dico è un muro di cartongesso e adesso mi trovare in una stanza tutto chiuso con mio fratello fratello potrebbe essere l'epo l'hospitalio di questo edificio no no io non sono il prof azione per vedere di prendermi un ufficio ma questo signore essere proprio bianco buona sera polca puttana che essere bianco lei cosa si è fatto buon uomo la vedo un po' rosso in volto che è successo polca puttana e io avevo fatto a occhi chiusi polca puttana devo andare a rifare un po' tutto ah lei avere proprio trucco nel viso eh polca puttana e anche un po' sporco di sangue si è fatto male eh piccola chiediamo lei che ha accanto particolare buono ma da dove viene lei com'è che si trova qui in città ci racconti cinese di che parte della cina la cina è molto grande lo sa polca puttana a fare i cazzi suoi non fare troppe domande particolari ma no glielo chiedo semplicemente perché sono molte etnie in questa città spiegale subito com'è essere la mia situazione polca puttana l'altra la volta questo il trovare polca puttana essere in una piattola lei è China China allora stavo spiegando una camera qui non c'è solo una camera poi ci sono vere e proprie case qui e qui ti trova il mio fratello là in città io non avevo capito eh tutto qua ma io le lo chiedo proprio da che parte della cina lei venga perché appunto se trovo un'altra persona magari posso confrontare le faccio sapere dove è suo fratello no 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 mio fratello non è sale cinese avele adottato capito ah è un fratello diciamo cazzonetto 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 blau 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 avele preso cazzonetto cazzonetto no io sono inglese sono inglese porca puttana lei fa le becchino tutto di nero porca puttana fa le paure salve io potrei parlare con lei porca puttana com'è zina zina prego prego come no zina 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 tu vuoi essere proprio veramente rompicoglioni ah si si attento con questa serie guarda guarda che si fa male io quale serie quella che sta qui io non vedere ma lì c'è una sedia qui si ho fatto ribaltare io ho una sedia ma signore io non vedere ho un bimbo con me tu con capelli bianchi ecco adesso la nascostata amico si si tu con la camicia bella vieni vieni allora io non vedere troppe cose devo guardare una cosa e quindi vede signore come le dicevo deve stare attento a questi muri in cartongesso che qui questo non è non è l'unico muro in cartongesso il budget secondo me poi capisce che l'ha aumentato il budget secondo lei no ma poi le viene le viene da sé che se il muro è di cartongesso appianti appianti salino diciamo che io non voglio fare la fine sa settembre 2001 sappiamo cos'è successo purtroppo si ma io mi sa che domani ma è solo questo è solo questo mi sa che domani avrei bisogno di lei un attimino signore perfetto di me continuiamo a scaricare noi assolutamente mi scusè mi scusè posso parlare con lei capelli grigi grigi aspetti sto affrontando un discorso comunque per concludere questo muro in cartongesso l'ho segnalato al proprietario ho detto che se non lo sistema non comprare proprio un cazzo di niente bravo ho detto guardi che qui dobbiamo chiamare una persona un carpentiere qualca puttana questo è l'unico muro in cartongesso che lei ha trovato no no io il carpentiere li sa tutti i muri in cartongesso ok ok capito qualca puttana signore lei da dove nile io io svizzero ah ok qualca puttana antone tedesco mi dico sbagliato vengo con lei sberdonatemi signori una bellissima tageccia eh questo ma è stato a pasilea signore non posso dire avele ascoltato non potele dire hola come la chiamare a lei signore eh porca puttana essere troppo difficile dovrei prendere sempre il telefono e vederle comunque ti vuoi una scimina una cosa del genere tu chiama cinese a me chiama cina non aveva ancora ho visto altri cinesi qui in zona no manco io adesso la cinesa sarà solo l'unico polca puttana ecco stanno facendo traslochi signori signori fermate tutto non dovete fare adesso traslochi polca puttana che cazzo portare tutti indietro questo tutto crollare questo edificio no 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 dobbiamo far traslochi ci pagano no 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 portate tutti indietro vabbè polca puttana questi vuoi dai remancio facchino dai remancio facchino pacchini io dare mangio voi portate indietro tuttora da mio outfit molto bello a me no no portare tutto qui è spettacolare per comprare calda ma dipende dalla storia di fare molto sbagliato con la camicia che problema come è la camicia molto crosse molto crosse per rubare la macchina andiamo 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 e certo ma infatti la cosa per il momento ragazzi l'attività dovrà essere cioè la funzione di tutti noi in città sarà quasi tutta legale no all'inizio perché fare l'illegalità adesso non avrebbe alcun senso poi vedrete poi vedrete lì ci sarà ci sarà molto da vedere le idee sono buone e la base della storia ve la voglio dire da domani dopo domani in avanti come vi ho detto essendo che stasera è un test una beta dobbiamo vedere se tutto quello che abbiamo in mente può funzionare se può funzionare poi chiaramente vi dirò tutto com'è come andrà piano piano ma avete già comprato un'auto? noi? eh adesso stasera noleggiare puoi vedere poi giro con mio fratello macchine che cos'è quell'auto rossa lì? quella è mia è per lavoro quale auto? sto lavorando non mi dovete rompere i coglioni mentre lavoro sto scaricando non ti permettere più di toccarmi le chiappe capite? ma chi cazzo avrei toccato le chiappe io non ho toccato nessuna chiappa il massimo loro che stanno passando ma di chi è questo signor mi scusi ma son fratello che cazzo sente mi scusi se vieni domani ti fai per mare in che senso signor Hans in che senso se vieni domani ti fai meruare signor Hans mi sente perfetto l'ultimo signori c'hai riflessi un po' andati non ho capito in questa storia ci stupirai secondo me sì ci sono molte cose belle belle nella storia vi chiedo la vostra attenzione signori scusate il disturbo un attimo non abbiamo finito un attimo abbiamo finito noi che cazzo ha rubato il cartello di stop quello lì il nostro capo dice che ve ne dovete andare stiamo chiudendo signore io qui faccio il cazzo che voglio perché questa cosa di merda la compro ok e comprare anche ditte voi dire al tuo capo che comprare anche lui mettere in giardino a teglia di erba capo vieni qua porta 5k ti stanno a minacciare sì vai fuori fuori si stanno minacciando la ditta mezzinco vai 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 fuori ma quello cos'è una fabbrica di cartelli basta anche quest'altro basta ma sono coltello dove ce l'avevi le cazzo a notte con tutti questi cazzo di cartelli io l'ho tirato fuori dal noi mi mangio lo faccio noi ci occupiamo di di business cosa fa mangiare in ciotola di cane questo è stata un avvio di protesta per far uscire i signori ricchi da questo palazzo perché doveva il telefono bianco 129 praticamente stavamo lavorando questi signori si sono nascosti nel nostro edificio e non scavo esatto esatto andiamo a posto proprio carlo grazie per il like bello benvenuta allora amori miei come andiamo qua come andiamo signore signore mi lascia un po' di fagioli per favore grazie 85 like dai forza boni miei ne mancano 15 voglio un po' vedere cosa c'è arriva l'aereoplano arriva ragazzo una parola schiena questa è la saldatrice per il mio furgone capito che luca può mi tagliare la testa andiamoci l'ho rotto cazzo io andiamoci prendiamo il furgone come andiamoci come andiamoci a fare macchina bella noi venga venga ma che sommati questo ma sta lì sopra l'auto con il furgone ma che mi ha mandato che cazzo siete tedeschi voi salve salve signore quindi dove siete germanici germani spizzeri spizzeri cantone tedesco signore lei è un tedeschio si tedeschio lei è nativo di questa zona io si sono anglo anglo stronzo io anglo stronzo americane anglo stronzo americhese americhese piacere signora Hans piacere signora Alveillac ma lei che lavoro fa signora piacere piacere vende cioccolato non ho ancora investito mio denaro in questa città sono venuto a vedere cosa c'è può essere di buono ah sei uno con grano sei sei la pita abbastanza abbastanza miglia investisci su di me me guardi sono signore io sono un poliziotto ma veramente molto molto è un poliziotto lei è poliziotto? sono un poliziotto è un poliziotto è un poliziotto io sono a farmi cazzi mia ma non sono operativi sono sempre un poliziotto è h24 stronzo sono però in questo momento ma questi questi cazzi di capelli da dove cazzo uscite? non so chi è questa gente è l'ultimo tipo di passati è un samurai non abbiamo la domanda non abbiamo la domanda non hai neanche bisogno della corda o usi direttamente la treccia ma che cazzo vuole ma la cazzo è la sua ma questa non è stata un linguaggio bello come è il segnale eeeh sciacquatemi dai coglioni non ho capito qua dovete stare vedete sciacquatemi dai coglioni va a compito la giornata non lo vede non c'è questa questa che si è molto gente brutta all'andare anche vederti ma senza dire niente che persone andiamo basta da questi che cazzo sono fate so dire fate so dire fratello fratello aver aperto porto fratello fratello ma voglio ma senza motivi io volevo picchiare anche questi eh perché picchiare perché hanno faccia come culo mi piace signore lei salire salio no salio no questa se la fai fratello qua questa questa con i pantaloni bianchi come mai noi avere questa macchina di merda allora macchina di merda l'abbiamo prestata in leasing ora distruggiamo noi a quel signore molto molto centinaia di merda se si è pacca un cazzo pacca non li pago proprio un cazzo ti erano le sede andiamo è venuto a salutarci si sarà brigato qua da noi sarà salutando magari un po' cosa adesso adesso lasciare con benzina questa macchina oh rubare macchina qua ah no sono sono ragazzi quelli che scaricavano andiamo a cercare a mangiare a mangiare crauti io voglio mangiare crauti io voglio mangiare non fanno scorreggiare amen 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 cazzo me ne pregate io traute con cipolle sopporti scorreggi sia buo swibble swibble buono swibble benicoloso swibble sconto testo ti sei bichè l'abbia 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 nativo nativo chi è che da scolta scelta maledetto cio ma in teoria doveva muovere delle ferlarie adesso ci puoi non gioco al metro di avere il caldo forte graficino franco piano no franco quello per fa palestra forza franco franco dalla piaccia ucciano chiamo così franco ma qui anche civili bocce no? tutti rincoglioniti guarda quante macchine ci sono passate oh bello bello molto bello questa macchina sopra andiamo a prendere la macchina sopra è colf quella a destra badante badante la colf la batante scendere 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 io vorrei prendere questi 500 prezzo 60 dollari questi costare 60 dollari questi costare 60 dollari 120 dollari mettere nel culo la macchina stare fratello non comprare non comprare 60 dollari un minuto come un minuto? tariffa minutaria minutaria qua è molto grave a minutaria si si macchina e' un cavo è un cavo è un cavo non lo so il nord sai il nord non so proprio cosa c'è di diverso ragazzi io conoscio questo furgone furgone spazio come essere zona 9 ac per 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 il locale per questi per 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 saranno un gioco pieno so via al colore un gare qualcosa da mangiare a me o è chiuso a molto molto tirchio quello che ha dato da mangiare a noi qua in questa città sono ah ok allora te aspettare a mangiare salve sarai signori salve salve vendere bottiglie di vetro si quanti soldi? quanti soldi voi? una tre una tre però essendo che tu sei molto bello facciamo 2.5 e se ne siete tanti grazie salve io sono già bello scusa come facciamo un essere bello appunto siete belle ah infatti a tutto guardato grazie 2.5 eh come noi si prego prego quindi ragazzi si vedeva esatto serve aprilepo ma serve aprile si si entrado qui davanti di banca ah hai giusto tutto, tutto cinque tutto cinque tutte , no speri 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 facciamo prima, facciamo una faccina dei contatti tutte cinque se siete rossate io ho dato io ho dato duemilacinque signore con cappellino almeno da, la dammela da ah ok tieni dai dai tieni tieni ok dove hai palnetto so prego prima li scasso tutti e fa tanta bua però voi io sono spizzo del cantone tedesco signora si mi stasso il strancio che dice che dice a presto di gioco e abbiamo fatto un potere appoggiare quando i ammali alzano e poi ti ahi ammali alzano e ma andiamo a prendere il mio ammali alzano ha un'altra direzione di potenza piccadone box mussul e risolvino albera non lo so Come good? Che cazzo? Ti pare in craze non tedesco? Zio che cazzo dici? Good sei in tedesco, scemo Good, good! Guts! Guts, no good! Guts, no good! Ah! Non hai capito! Io ligo! No vabbè! Non hai capito! Non hai capito in tedesco! Avrai questa albia, se vuoi un merdo! Va bene, vai io! Ciao secco! Vai a fare in culon! No, non sono secco! Non sono secco! Come non sono secco? Eh, spicy! L'amico ti secco! Il fratello di Rodrigo! Ah, Rodrigo! Ah, bello! Io avrei conoscito un perlo racasso che si chiamava Rodrigo molto divertente in altra vita! Eh sì, eh sì, eh sì! Va bene, ragazzi! Quelli mi hanno lasciato lì! Ah no, e invece no! Nolli! Tu dovrai aver comprato cazzo di bottiglie carmeni essere chiuse! Eh, un segreto! Un segreto! Un segreto! Un segreto! Un segreto! Un segreto! Andato a controllare i cassonetti! Mi- no 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 adesso io mettere gps c'ho appena inculato c'è il culato inculato c'è il culatel prendiamole inculatel nel senso che sono stati più forti di noi vai qua vai qua vai qua e portiamo di avere viste città io qui fare 24 battiti 60 70 di 20 ah ciao paulone buonasera a te bello come stai? che ne pensi della nuova city bellissima santo parziale ragazzi guardate le torri palazzi è tutto strafigo ragazzi poi un sacco di cose dobbiamo ancora vedere far vedere è venuto ha chiesto un prestito dove stai? ma io Michele ma perché non ti ho riconosciuto ma ci abbiamo parlato ci siamo visti? è cambiato qualcosa? non lo so se è cambiato qualcosa lì non c'è più qua amerone ciao bello ciao andrea come stai? benvenuto bello ok destra ancora e grazie anche per il like vai 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 dritto vai dritto vai dritto e poi a destra mi treno oh guarda che macchine qua ah dove vai qua? ah ma lascia stare questo è tutta rotta sta macchina vuol essere un manico con le macchine che ha fatto? la portoglio dai tu devi controllare tua malattia per macchina fratello però sei peggio e ti vecchietta al giorno di pensione quando arriva la posta controllo dentro questi cazzonetti maaa cos'è? cos'è? cosa hai trovato? io farei grande regalo amico mio cosa hai trovato? che mi dà rifiuti? che rifiuti? le mutandine della sorella sono io non avverso le cose o questi rifiuti? cos'è rifiuti? a chi? a chi? a chi? a chi dà questi rifiuti? come rifiuti? sono le mutandine quelle ma che? non hai visto? mutandine di donna a me c'è scritto rifiuti eh perché questo è di scarica oh via via ci hanno portato in un posto di merden pieno di c'è gente c'è gente andiamo via via c'è uno fa la fedetta fratello non potremmo stare qua noi fratello fidati di me andiamo via per quale cazzo di motivo questo signore ce ne aveva la bottiglia in mano aspettando qualcuno ha detto tu mi hai chiamato io non avrei chiamato avete chiamato voi? no infatti anche io per la bottiglia però questo per stare qua vedi sta parlando radio andiamo via andiamo via io spacco tutti andiamo via maledizione fratello ma con quella bottiglia vuoi fare proprio il cattivo fratello io sono cattivo ho capito ma avere paura di quattro cacati no 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 mangiare di attraverso fratello fratello ascoltami ci siamo arrivati in una maniera che non potevamo arrivarci maledizione maledizione andiamo con la macchina no ho pensato dopo maledizione no no zio l'ho visto in un'altra città fratello come si fa a mangiare sto cazzo di posto devi fare uzza uzza usa non usa un cazzo arrivo ah ecco no non va sto andando a pigliare le bottiglie ma ne vedo perché non va quattro dipende quanto c'è in tasca eh ma se ne fa non do conto no sto con quello che le vendi ah ok come fare a mangiare qua io anche io mangiare adesso come fare a mangiare eh al 60 arriviamo salve signore salve 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 hai portato la roba siete voi siete voi si vi servono almi quindi si quante uno che scende per favore magari togliete in moto la macchina per favore se spegni la macchina sento meglio perché già problemi grazie oh grazie mille madonna un quartino dalla pizza allora quante quante te ne salvano al pacifico ti ho detto è un 60 ah quindi al 60 si comprano cosa cosa si compra al 60 abbiamo le bottiglie ma c'è Cosdo Spice che ci ha detto che si trovano nei rifiuti aver comprato noi allora queste scuole si provate a guardare nei rifiuti perché sono i rifiuti scusami ma maledica 36 metà ok ok allora c'è più chiaro adesso aspetteremo aspetteremo grazie mille lo stesso au fidel si tutto ok tu finalmente è finita la settimana di lavoro e si è venerdì sera adesso ci sta dai adesso relax divano qua a guardare la live sono appena entrato no no ragazzi sono Hans Schnauzer tedesco praticamente svizzero sono svizzero cantone tedesco manca svizzera ah zia zia posso stare da qualche parte un attimino io bere un caffè e fumare una sigaretta da qualche parte e poi vengo io da voi ah ecco perchè questa grazie centrale dare da mangiare me ah vai 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 mi fermo anch'io lì ma vuoi la macchina? chi? no 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 non parlo di macchina caffè parlo caffè parlo per riportare per riportare fermarmi un secondino avevi detto qua stare la camioncina dove sta? No, no, al 200, proprio parcheggio, parcheggio, eccolo, proprio vicino a qua. Perfetto, a frappocco. Buonasera, signori. C'è qualcuno che ha dato a mangiare qui? Oh, oh, i tedeschi, i tedeschi, i tedeschi. Come i tedeschi? I tedeschi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, signori. Piacere, Hans Schmnauzer. Piacere, mio signore. Io sarei passato qua. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Albe, non ce ne sono locali aperti. Io stavo cercando qualcosa da mangiare, signora. Allora, se vuole lì. L'ho aperto. Ah, questo qua è il ragazzo che ho aperto la mano prima. Io lo mangiare adesso. Sì, sì, sì. Avere Bradvius? Vabbè. Ma chi sarete lei, Bradvius? Venka. 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 Tutti, tutti, tutti. E meno male che devo parlare in privato. Eh sì, vabbè, io ti dovi capire. Signore, che cosa serve che ci spostiamo se venite tutti quanti? Sì, sì, sì. Ma lei come si chiama? Hans Schnauzzer, signorina. Come? Hans Schnauzzer. Potevessi levare le corde su un'altra gattaforma. Ah c'è! Ah c'è! Ah c'è! Ah c'è? E lì invece dove si chiama? Io sono il signore Eric. Re... Di come si chiama signore con le traciglie. Io mi chiamo Ciccio. Ciccio, piacere signor Ciccio. Piacere tedeschi voi? Piacere, piacere. E dove essere nativo di questa città? Io sono nativo, diciamo, tedesco, tedesco. Anche lei? Sì, sì, sì. Noi in Svizzera cantoni tedeschi. Lei? Sì. Lei mi sa un po' di napoletano. Ah, però io diciamo che mia mamma è essere, diciamo, Calabrian, no? Calabrian. Calabria, molto bella Calabria. Sì. Bella Calabria. Che bel mare. Mio padre invece è Calabrian. Capisci? Ah, il suo padre è anche Calabrian. Sì, Calabrian. E io però tedesco. Lui però è tedesco. Io però tedesco perché... Come cazzo potete adottare? Eh, ti spiego, perché praticamente questo mi ha rubato lo cuore e lo ficato pure. Io non ho sprezzo. Signor Reina? Ah, signor Reina. Signor Reina? Sì. La mia signor Reina? Sì, sì, sì. Complimenti, molto, molto bello. Grazie, grazie. 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 Noi invece essere proprio nativi di Svizzera, cantonette tedesco. Mia mamma è napoletana. Svizzera nel cantono tedesco. Mia mamma è napoletana. No, però ti dico una cosa. Come... Un po' di spraissione? Un po' di spraissione? Un po' di spraissione. Ah, sì. Ah, un po', sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Da, da, da. vi sborgen anch'io secondo me ascoltami un attimo che mi dicono che devo bere ultimamente sto facendo anche lezioni di spagnolo quanto signor ciccio essere in città si fa sentire tanto cazzo è mancato sto merda ok romperò un cazzo che me l'ha lasciato tutti i corpi così mi senta pure che mi fa vedere chi era che chi era ascoltami un attimo fate un saltino tutti e due fate un saltino io farei saltino no no signore non abbiamo cibo c'era furconcino che dava cibo non c'è più era lì prima c'era furconcino ciao ragazzi e ma come cazzo mutare radio mutare penso che uno scuola k mi sa che si è fatto male se ce l'hai grazie mi sa che tu io non mi faccio non volare solo che mi ha bisogno di capire come si fa dimmi 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 questo signore l'uccello che c'è in mezzo alle gambe non sapeva che ha chiesto a questa signora buona tec buona sera signore ah lei è il signore della pizza grazie ancora stavamo cercando di nuovo qui non c'è nessuno che dare da mangiare se c'è una pizza e una coca cola mi farebbe piacere grandissimo bastardo col cappello mi ha portato via sopra e mi ha lanciato signore sa dove posso trovare un po' d'acqua grazie mille signore grazie se fateci come più silenzio ci fate venga 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 fratta ma da domani in poi non si scherza solo da domani in poi qua eh sei da sola? certo ah ciao è tornato ciccio ragazzi buonasera Rita come stai? che fa tu? che fa tu? è troppo difficile se no che fa tu? che fa tu? che fa tu? scusi la signorina è a terra hanno buttato giù la signorina ma cos'è che è stato? chi è stato? è stato quello lì quello lì quello lì a terra è stato è stato un bastardo in merda ci penso io ci penso io ci penso io è stato un bastardo in merda Tim tu di merda come stai? meh dove cazzo sei sbucato? io è un'ora che sono qui non ti avevo ancora visto questa sera ma che? aiutami chi fa tu? ma? come stai? tu? ragazzi aiutatemi ragazzi hai visto la bottiglia con la mano? aiutate che fa tu? aiutatemi è bene vedo con me è bene vedo con me vedo si si picchiano no no ecco aiutatemi gli ha piantato bottigliato di schiena mamma mia è arrivata a fare io non ho visto i sogni ho visto secondo me qua è meglio chiamare la polizia che qua stanno dando troppo di matto puh posso saputo io e perché davide ammazzata a questo aiutatelo e come lo vado a salvare? come lo vado a salvare? e mi sapevi muscoletto eh? no 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 si portatemi portatemi l'espedale portatemi l'espedale oh si 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 eccolo con la sto salvando lo sto salvando lo sto salvando lo sto salvando beh e sono rimasto inquietto anch'io sono rimasto a 90 aspetta aspetta spostare 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 aia 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 per favore no non lo voglio salvare a questo aspetta questo qua il biondo lo salva aspetta ecco salvato aspetti aspetti signore si fermi aiutare io aiutare io questo è un cornuto più grande un munchine omm ma si ucchio e questo non si sa oooh sta meglio non ho riuscito a mettere moragia a freno grazie grazie oh c'è un altro terra qua e io e io fratello ma che caglio beh ma che è sta cosa oooh sentite mi vado a dormire lo toio prendimi muscoletto x buonanotte steve vieni un secondo io vengo allora scusami giovane dimmi bro dimmi bro non avevo ancora ricordato di mettere i poteri a me porca trota e domani vediamo ricordatevi perchè io sarei senza poteri qua fiesa grazie eccolo che è arrivato scagnoso scagnoso è ma lui è sempre mia ombra anche quell'auto l'altro è troccato ah bastardo via 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 dove essere ombra piacevole stare zitto questo rompere sempre i coglioni vediamo vediamo cosa vogliono i suoi amici non 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 ma hai una domanda eh ma lei ma lei della vita prima poverino ero per te venivano ma ci si dice si aiuto io aiuto io ah ci capiti chi è ahahah allora se vuoi l'alberamento tasto fai ferme si aspetta che mi sposto guarda ok 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 comunque k io k faccio k k ma quindi fai k e ti apre il cassonetto e prendi la bottiglia e la possiamo usare bere un'arma bianca si si ok si trovano anche i rifiuti ma poi le lasciate la perchè le fai a me non fa niente oh a me come fare a trovare roba in buantissia raga quindi fai facciamo una bella cosa cosi signora muscoletto f2 no deve fare un mostazione abbinamento tassi no no muscoletto k di solito lo trovo su muscoletto k A mutare radio con un muscoletto K io A mutare radio Anche, anche E però ti devi mettere vicino vicino e Si chiama il mio amico il cassonetto Aspetta che andare a vedere Ma il qua non c'è niente Signore Ti posso parlare un attimo Serto Un secondo Ma in dove lo devo cercare? In generale, movimento, combattimento Armi selezionate Dove cazzo devo cercare? Io non c'ho capito un cazzo come dovrei fare No, gli rubiamo No, no Apertura, inventario, secondario Cosa stai dicendo? Vieni qua, vieni qua, vieni qua Fai VEM Abbinamento tasti Abbinamento tasti Fai invio Fai VEM E poi c'è scritto Non so qual è L'inventario Amore miei ricordatevi di lasciare sempre un like quando vuoi andare Apertura, inventario secondario Sai che l'inventario che apri normalmente è F2 Quello che apri tipo Ah, poi c'è scritto Sì, perché adesso probabilmente il cofano della macchina lo aprirai con K Quindi ti muterà anche la radio Ah, quindi lo cambiamo? Sì, io lo cambio anch'io E come lo mettiamo? Eh, non lo so F3? No Io metto... Non lo so F3 tutta la vita L, 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 non lo so qualcosa Oh, metto F3 c'è già altro? Come so io Non lo so, però non c'è niente Però se mettono qualcosa Posso sapere pure io Dove sta? Dove? Oh, hai messo? Io ho messo Oh, non c'è niente Limita che cosa? Oh, che cosa? Per aprire l'inventario Che tipo I rifiuti che si trovano dentro cassolette O che prendiamo il lavoro Sembra lavoro onesto Sembra lavoro onesto Sembra lavoro onesto Mai desonesto Eh, ma non c'è niente Eh, non c'è niente Perché un po' Ma scusa, ma se faccio F2 è uguale No Ah, no No, no, no Non è uguale, vedi Non ti dà cassonetto Adesso, sì Eh, giusto, giusto È la stessa cosa vale per la macchina Grazie signor Paninaro È stato molto gentile Di insegnarci questa cosa Grazie di cuore Arrivederci Prego, prego Comunque ci hanno fatto tutta la macchina Pure Eh, sì Ma ne va una tritta questa sera C'è una una io per voi Ciao Ciao Una signora Grazie mille signore Gentilissimo Ah, raga, ho trovato il proprietario Di questo posto E mi ha detto che Ancora Devono Renderlo Vera Sta cosa Delle bottiglie Ma dove No, no, è vera, è vera Ma dove l'ha detto tuo fratello all'altro È andato un ottimo via Ma è elettrica questa Ah, molto bella questa macchina Che dato state? 200 Raga, ma non ci sta il blip, raga Non ci sta Devi mettere inventario secondario Che posso dire inventario secondario? Eh, puoi spiegare da vicino Tu, ora Chi essere tu? Eh, chi essere tu? Non ti ho mai sentito Ci stanno per ammazzare tutti, eh Buona fortuna Sì, sì, sì No, Mauri, dai Il ciccio fa scassare, raga Ci vuole, ci vuole in città Il ciccio Trovare un cassonetto Eh Fare prova, noi Ok, ok Guarda, il conto è pieno Deve essere anche qua Vediamo una cosa Avere trovato bottiglia gratis Avere trovato questo Avere trovato bottiglia gratis In cassonetto Sì, noi ce l'abbiamo In cassonetto Io quattro l'ho comprato Che cazzo Cosa serve questa roba? Tica Rifiuti Abbiamo dato il covo della malaviglia Allora, l'ho ributtato Dove essere? Come l'hai buttato? Che cazzo passare a me? Butta in cassonetto, no? Che cazzo fare di rifiuti? Un panino Ammuffito Buttare anche quello Allora, buttare Alfa? Che è successo? Ci avete da mangiare qua? Ok, allora Venga a prendere sotto Dove essere stronti con noi? Serve da mangiare Da bere Abbiamo perso uno Abbiamo Quattro bottiglie Di Cotte E' 20 dollari Trovato Come? Trovata mutandina Uh, adesso Ho trovato L'altra bottiglia Trovata Bottiglia Rotta Eh? E io Ho detto Trovate già quattro Io tre Quindi se volete Questo non è Apri Giovani Ica Dove state? Che io Provo la gazzita Dai, andiamoci A chi serve? 638 A chi servono bottiglie? Arrivo Io avere tre Io avere tre Bottiglia Ok, sarei sbloccati Però devo dire una cosa Signore Che le corde oggi Stanno funzionando Una meraviglia A me è essere cadute Una volta sola Sì? No, a me ancora no Una volta sola Vanno dentro macchina 27 cristiani Allora è essere un motivo Esatto Poi tutto questo Andrà bene Molto molto bello Questo Perché prima Era un casino Sai Non riesco a vedere Quante persone ci sono In città Non trovate Quanti io ho trovato ancora 5 bottiglie Eh, ma dove state? Mi sa che hanno 928 Non essere page down Strano Non essere F11 Rifiuti Oh? Oh, stavano 150 rifiuti A che servono? No, rifiuti non servirà un cazzo Poi dentro cazzolette Trovare anche Bottiglia Non si mangia Si serve bottiglia a te? Sì, sì Sì, ok Sì, sì Ecco qua lei Bottiglia Non c'è Bottiglia io Per terra Ha buttato terra Dietro il tuo culo Ah E terra Perché non Prende? Posa? Non la fa prendere a terra Non sapere Eccolo qua Ora si Però sei stanco No, non tu Ah, sei tu? No, te la vieni Sare di tiuto Ok Stare via con macchina? Dai, pilota, tu guidare, ya Cinque bottiglie Sicuramente a tutte bottiglie Sì, tante bottiglie Tu vedi Noi avessi fa il culare Cinque mila dollari E così, eh Eh, siete dei grandi E a noi essere businessmen Ecco No, io sono un coglione Ah, lei è essere il coglione, è deficiente Ecco qua Oh, quanto cassa mette Vuoto Alla discoteca C'è il cazzo Ti cogli da vedere quando No Non l'ho mai fatto Trovato pure soldi Ho trovato 9 dollari Buone Io non avrei trovato un cazzo di niente Questo è già saccheggiato Questo vuoto Stiamo alla chiamare soldi Fratello noi, eh Ah, sì Adesso io dire lui Adesso Ascolta Camicia Camicia Lei ha detto Che avere tanti soldi Ferrari qua ad essere Vista nei cassonetti Vista Ma io divertire Per prendere bottiglie rotte Per picchiare qualcuno Stasera Ah, loro avevano abbastanza bottiglie oggi Frecare un cazzo di cassonette Oh, porca puttana Puoi essere ciappiano di macchina? Eh, sì Sì, sentendo che qua Essere zona Pericolosa Pericolosa? Mi piace Picchiare qualcuno Oh, un altro 7 dollari 7 dollari E' un po' tiglia 6 bottiglie 6 bottiglie Io a trovare solo Ma non si accuma Non si accuma 6 bottiglie Andiamo a fare i documenti Andiamo a fare i documenti Anche la patente Andiamo a fare i documenti Documenti in centrale Attar Attar in centrale Attar Avete già fatto documenti a voi? Andare adesso Fermati sono in negoziato di Che mi devo mettere il chiare Qualche stronzo Avere fatto saltare I miei occhiali Prima Non è vero Niente Provare a fare una cosa Amico Signor camice di merda Provare a fare Ma Cosa? Provare a fare una cosa Oh, perché questa cosa? Cosa? Lei sta guidando Lei sta guidando Eeeh Fai muscolate X Prima cosa Perché stai facendo una roba Che non sto capendo Eh, infatti Mi hai buttato a me a terra E poi Se io faccio muscoletto Y Buttate fuori da macchina? Fai muscoletto Y Fai muscoletto Y Sì, guarda Buttate me fuori da macchina Guarda Allora io devo dire Dire questa cosa A miei superiori Niente Fai muscoletto No Non ti butta fuori da l'altro Fai muscoletto Y Non vedi che c'è una freccetta in basso Il cerchiolino con la freccetta Che fai la curva Prova a cliccare quella Lo stai già indossando Eh, prova a cliccare gli occhiali Niente? No Non è solo chiaro Eh, no, no Non rimedi Però se io schiacciare questo Buttare fuori di giù da macchina? No, non buttare più fuori Perché? Non butta fuori Non butta fuori Perché Se mandi Abbraccio Cazzate varie Ha mandato abbraccio chi? Sì A me Ma io non ho mandato abbraccio Sì, a me sì No Qualcuno prima ha mandato A me abbraccio E io ho palpato abbraccio Oh Perché fai così cattivo? Scusa, perché c'è scritto E come faccio a mettere il mio outfit? Di nuovo Ti dici scritto Cambia outfit Salva Poi cambia outfit E ce l'hai salvato Ma non avrei occhiare Infatti Eh, perché tu non avrei salvato con occhiare Prima non hai fatto salva, sì Sì, che avrei salvato con occhiare Ah, che palle Perché quando tu hai perso Devi ricomprare, capito? E puoi salvare di nuovo Ogni volta che prendere un pugno Perdo occhiali Eh, sì Ah E devo ricomprare Eh, dover rimettere E non ricomprare Se tu hai salvato outfit con occhiali Allora ok Io ho rotto le occhiali Lei deve ricomprare gli occhiali Non è tanto difficile da imparare, sa? Fare poco furbo tu Drogato Io non avevo mai fatto droghe Ah no? Assolutamente no, signore Ecco Occhiali numero uno Bellissime Ah, molto belle Anche i miei Piacciono i miei occhiali Perché mettere dietro a fronte Mettere dietro a fronte Che cazzo Aveva fare No, perché No No, perché in Germania Usare così Essere grandi coglioni Sì, perché Loro vanno al mare Anche in Germania Con questo qua Documenti in centrale Andare, andare, andare Andare Centrale Arrivo, vieni in centrale Alla fine Dai, veloce Dai, via, frenagia Io non sono mai andato Andare a fare quella Dopo ci facciamo un gire E magari Siri Sì, noi adesso andiamo a fare due buoni Conoscere una canzone bella Questa, ya Conoscere un'altra canzone Luca Toni mit peperoni Nananananananana Per me Sì, a fare tettesco Tettesco di Svizzera Tettesco, ovvio Altra canzone E Sì, a fare tettesco di Svizzera Tuttede Mi nasce È buo Mi nasce Mi nasce Mi nasce Mi nasce Mi nasce Mi nasce allo 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 senta uno alla volta ragazzi uno anche per i documenti uno alla volta vada vada lei signore eccomi buona sera allora aspettiamo un attimo no cosa scusi signore no no mi sa che ha gli occhiali al contrario ah no in Germania in Germania ti dirai anche perché non fare i cazzi tutti in Germania ti fa così saluto Germano solida cist che vorrei che la moda fatevi la vada a me piace camicia qui è possibile anche fare patente di guida signore è possibile fare anche patente di guida tira fuori la telecamera tira fuori la telecamera oh lei ecco lei questo signore come faccio a fare anche patente dovrebbe andare a sua guida potrebbe passarmi per favore il documento a fare anche patente di guida salve vi presento così il microfono un amico di una vita ecco salve vi presento Sibillo così signore oh ok la fatta le puoi già andare grazie mille grazie a lei gentilissima signore arrivederci fa l'amore con me fa tutto con me ha fatto il documento già? e non ancora maledetti bene ragazzi da Los Andros News è tutto chiudiamo alla prossima vi chiamo quando facciamo il cambio della andiamo eccolo uno alla volta uno alla volta mannaccia now the answer e niente siamo ancora qua in fila che figa siete pronti? ho fatto il documento ma patente? eh guala tu guardi fare patente prendi il portafoggio mettere uso poi dopo mettere identità patente salve buonasera tutti buonasera ah quindi già avere già avere patente quindi io dovrei fare la patente e i documenti posso giusto? sì 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 poi sarei scherzati signorina io le portare a fare prendere un filo insieme ma come? poi il brusca limonore e quello è un malandrino signorina stia lontano da quell'uomo malandrino non mi chido molto non si fidichi lui va bene no no gli spiriti gli spiriti ah sì sì quelli no si fidare eh signora ecco lì il piantino che piovore il piantino lì deve andare da spiro ma ha dei capelli bellissimi signore ecco io sapere che lui fa colpa di me prendo questi capelli grazie a te io farò di più sapere io che madre non è buono signora ma invece la mia treccia non le piace beh anche quella mi piace forse me la devo portare di rosa sicuramente il signore qui è più facile di lei non solo per i capelli ma essere molto più bello però lo stai sinuando che non lo sono lei io sì no io ti c'era da signore qui a signore qui ah allora lei è essere molto buona è bella grazie mille grazie mille basta complimenti se no piango oh c'è no addirittura io non potrei vedere signorini piangere oh che se mi fa morire porca puttana che cazzo è qua e lei io adesso starei sutare vicino signorina mamma mia ti faccio questo effetto ecco signorina eccolo di verità signorina di verità non sono beh più bello di città posso ah no non preverò questo scusi dovremmo fare dopo peccato eh sì che paura vuoi accadarmi allora io dovrei pensalo 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 pensate no se era più bello no ah va fanno certo che cosa faccio è bello signorina è libero 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 aspetta se deve fare questo come si signorina deve andare a te spiello No, che paura. Vuole che la compagni? Quasi quasi. Venga, si, mi seguo. Va bene, la seguo. Vado così a fare i documenti. Signore accente. Signore accente. C'è la signorina che deve fare i documenti. Qualcuno libero? Stava arrivando un agente adesso per fare il tuo coppio. Può venire da signorina, signora, con i capelli bianchi? Stai dicendo a me? Sì. Sono in pattuglia, sto aspettando le cose che devo avere per la pattuglia. Perché ho chiudere il tuo documento. Perché aspetta il tuo collega a fare pattuglia e fai il documento alla signorina. Non li so fare. Ok, impari. E in casa glielo darò. Signor biondo, la signorina, venga con me, venga con me, signorina, la signorina, venga. Signorina, ecco, signore biondo, la puoi aiutare, è molto gentile questa signora. Vengo senza. Salve, dovrei fare i sei documenti che la potendo. Venga. Venga, signore. Ha fatto il documento. Svizzero. Dica. No, no. Non grittare tutti in questo posto di merda. Non grittare il suo baffetto. Lo so, me lo dicono tutti. Ma questo è chi cazzo essere per la polca puttana che viene sempre dietro? Questo chi? Questo qua. Ah, polca puttana. Questo con camicia colorata? Eh. Eh, lui sempre dietro noi, non so chi cazzo essere. Ah, allora va bene. È tutta sera che ci ha staccato il culo. Comunque polca puttana in città qualcuno fa le soldi. Sì. Vendele almi, capisci? Vuole comprare? Vendele anche io bottiglie. Eh, polca puttana, però lei vendele poco, capisci? A me. Al centrale molte persone vendele. Vendele polca puttana. Polca puttana, questo è essere scemo comunque. Non vuole bottiglia io, però polca puttana, se lei vendele una, lo lo vendele cento. Polca puttana. Vuole comprare bottiglia? Vaffa culo, ciao. Ah, cinese cazzata. Ma come è possibile che mi perda sempre, polca puttana? Ah, deve fare il documento lei, coglione. Maledizione, dove hai documentato? Documentazione. Da spirro, da spirro. Dire fare anche patente, ti dà anche tutto patente, tutto. Polizzai, polizzai. Ah, corrotto, corrotto. Sì, sì, sì. Avere lasciato 500 euro. Sì, 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 non posso, l'ho fatto io. Fotografiche, signorina. Ma tu non sei? Scusi, signore polizzai, la polizzai, sta a fare fotografiche. Mamma mia, stavo io prima. Arrivando. Arrivederci. Arrivando, arrivando. Vai di qua, fratello, dall'altro, vieni qua, vieni qua. Da biondo, da biondo. Una puttana solella, che malito. Bionto lì, vai da bionto lì, vai da bionto lì. Signorina, deve passare di qua, signorina, prego. Ah, di là, di là, grazie mille. Qua, 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 qua. Maga, qua, 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 qua. Prego, sì. Maga, qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Visto che non le è successo niente, signorina, ha visto? La documentazione. La seconda volta che ci si vediamo. Avevo paura che... Sì, perché stavo accompagnando la signorina per i documenti. Questa mano vicino alle mie tette non la volevo. Salti un po', signorina, salti un po', salti un po'. Non mi dia ordini. Ok. No, bravi. Non deve dare ordine, signorina. Non deve dare ordine, signorina. No, come si chiama lei. Sì, in effetto. Due topi hanno le orecchie, uno destra e una sinistra. Fratello, io sposare questa signorina, piacere. Come sposare, signorina, non credo. Ma il tedesco... Ma il tedesco più... Ma... Dato che volevi il mio numero, non è che mi accompagneressi a prendere un telefono? Oh, cazzo. Perché non ho assolutamente idea di dove andare. Grazie mille. Abbiamo perso l'autista, fratello. Abbiamo perso l'autista e poi... Abbiamo perso l'autista e macchina. Ma porca puttana. Chi era più un pelo, ti fica, che una macchina? È un carro di bui. Non era, è un carro di bui. Siamo voluti, siamo a 2023, ma ormai si usano le macchine per il carro di bui. Cazzo, bello, bello. Oh, cazzo. Girati, fratello. Oh, gente. Chi è? Chi cazzo è questa? Chi è qua? Porca miseria. Ma no, mamma mia. Cavallo. Che stifio di santo. Vedi? No, è anche il progettario. Questo è qua. Quello, secondo me, è altro che il carro di bui che tira. Mamma mia. Lì, mortacci, stracci. Perché se l'è portata sopra, signorina? Eh, spira i potenti. Cazzo di piccolo, ma... La divisa, eh? Qualcun altro ha bisogno di documenti? No, signori, io avrei bisogno di quella signorina che è salita sopra. Eh, no. Chi era quella signorina? Dove c'è... Apri la lappa, così cosa? Dai, come è arrivato, ragazzi. Mi ero perso io, cazzo. Scusatemi. Ragazzi. Ciao, ciao. Buonasera. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guardi che lei c'è il telefono sulla giacca. Mancano due like, siamo a 98, ragazzi. Io? Sì. No, può essere sotto, ma giacca... Buon difettata, difettata. Ma voi siete proprio... Posso fare i documenti dopo il signorina? Esca di Svizzera. Dicela. Ah, di documenti qua. Svizzera, canton Ticino. Guardi che di Svizzera. Eh, ma dovete dare un po' guardarmi un po' la... Che bisogno di documenti? Ah, c'è la ragazza. C'è il petto un po' strano. Venga pure. Io avevo il petto strano? Io avevo il petto possente. Questo con con una camicia qua? Sì, e guardo. Quello è tutto strano. Ma c'ha pure gli occhiali all'incontrario, vedi? Questo è il secondo me il signore più brutto di Grausit. Sì, concordo. È il signore più brutto, ma è brutto. Stai parlando con me? Sei impegnato tanto a essere brutto così lei? Ah, il signore qua? Secondo me... Ah, il signore qua ha avuto, secondo me, un incidente con un Bull Terrier. Sì, ma io... Eh, io non capisco. Le persone mi dicono che sono brutto, ma non capisco mai perché. No, ma... Lea comprende che il cane è Bull Terrier? Si riconosce? Sì, sì, bravo! Il Papa è Bull Terrier, il Papa è Bull Terrier. Il Papa è Pull Terrier. Il Papa è Pull Terrier. Il Papa è Pull Terrier. io voglio conoscere meglio signore pelato molto simpatica come si chiama non lo chiamare solo pelato perché ti sfondo di mazzate come come scusi come scusi tg 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 bastano ma come abbiamo già fatto grazie mille grazie a un fitterson salve salve ma andiamo dove che qua ci hanno lasciato a piedi per la figa questi amici tu hai sa che è quello che ci hanno lasciato solo per la figa per aver conosciuto tom rider eccola 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 quello è tom rider tom rider farei belle cose io con tom rider bella merone che state combinando così hai preparato no non ti racconto nulla amore mio è tutto è tutto un non spoiler malu lo vedrete sera per sera questa è una beta stiamo provando la città stasera avete solo visto e ho fatto vedere a tutti perché del personaggio che sono sono svizzero cantone tedesco mi chiamo schnauzer e hans e niente di più non ho spoilerato niente finora piccata puntaci fuori eaia che ci faceva cina con no non è che sta guidando non è con noi cina però stiamo ruolando un po tutti per la città in giro per conoscerci vedere fare di fare capito e vabbè per provare la città in breve noi siamo cucini di piloti cucini lui è amico di michael schumacher io cucino solo latte con biscotti non cucino io cucino solo cartoffel eh e grant cartoffel cruz cartoffel madonna questa macchina proprio un cattorcio di merda maledizione grazie per il like la condivisione malu grazie per il like grazie ragazzi dai che siamo quasi arrivati a 100 siamo arrivati a 100 eccoli tondi tondi giovanni e amoruso il nostro centesimo like grazie zilaz dove cazzo essere zilaz ho conosciuto prima zilaz zilaz questo palazzo enorme è proprietario di questo palazzo enorme questo è il centro commerciale no no non essere proprietario di palazzo no essere proprietario di negozi sotto forse neanche proprietario gestore pienodicente perca puttana pienodicente dove qua qua intanto anche un signore quello di prima intanto se si chiamava il signor com'era quello ah ficcalac guarda qua ah ficcalac andiamo qua chiqui snack chiqui 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 andiamo a mangiare andiamo a mangiare ho una fame fratella enorme dove c'è a mangiare qua dentro vieni eh oh non credo sempre più corri più fatti i pagliacci del piano togica salve signori ma che problema ah mi devo sussare cosa ha detto scuffi 1sr cibagina allo cibagina 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 ca dentro la mente il signor zilaz cibagina ho visto che macchine hanno questi bastardi spiare spiare la scuola in scelta commerciale ma anche messa le tic tic dove comprare da macchiare qua a sinistra venga c'è anche questo centro commerciale qui si poter comprare da manciare qui poter comprare da manciare scusami scusami guardate ma è un cazzo grande questa bottiglia di coca cola facciamo a metà facciamo pronto oh no che cosa buonasera a tutti buonasera buonasera dai via tutti quanti dalla merda allontanatevi dai allontanatevi grazie allontanatevi allontanatevi e cazzo un attimo da oh vieni pure al bursh califa che ci sta una cosa per te bursh califa dove stiamo tu all'88 come si andrà sono andato a prendere panina sto uscendo come panina e vieni fuori e vieni ti entra a comprare da manciare non mangi perfetto dai non mangio ho mangiato ho mangiato dove cazzo stai non c'è nessuno qui fuori sto fuori sto fuori sto fuori anche io non c'è nessuno all'ingresso dove c'è la polizia se ne vada se ne vada lei ma dove c'è dove c'è cose dove c'è cervo ci sta una macchina l'ingresso principale non del retro allora ho uscito sbagliato l'altro uscito si 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 perfetto andate a cercare perfetto qua sono tre uscite qua neanche questa allora è quella di fronte di là enorme sto posto ci si perde raga bella Sandro Nauser si Hans Schnauser ragazzi ah si è appena arrivato ah no ma te l'ho rubata no ma te l'ho intervista buonasera signor chi cazzo siete voi mannaggia la troppa di giornalà o l'intervistiamo la troppa di giornalà ma mannaggia ma da dove cazzo sbucate voi allora buonasera tutto allo santo siamo da troppa di giornalà oggi viste voi signore nome lei a sera pub buonatale l'uomo più ricco della città si sposti probabilmente si si sposti rovinare le prospettive che belli occhiali che è lei lei signore per avere questi occhiali che lavoro fa io signori non lavoro sono ricco di famiglia generazioni è venuto qua da dove dalla Germania Svizzera cantone tedesco Svizzera Svizzera ah mi scusi sono venuto di investire un po' dei miei soldi in questa città se ne vale la pena se merita a me perfetto se vuole noi siamo a disposizione siamo una nuova troppa di giornalisti che vorremmo supporto e sponsor da gente come lei cosa deve essere troppa una squadra tipo un'equip 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 l'equip un giorno l'auto quindi adesso invece squadra squadra gruppo bellissima palazzo nuovo crisi assieme di persone che formano una squadra quanto cazzo di te da quant'è città lei signora io essere in città da questa sera arrivato con mio jet privato benvenuto benvenuto da svizzera ah e finito il di quindi molti soldi monaco di baviera cantone tetesco però non è in svizzera lei come cazzo fare a fare giornalista che è essere ignorante come capo tibetana allontanate allontanate quest'uomo con la zucca sta rovinando tutte le telecamere posso vendere la zucca oh vale la data ci serve nooo riprendiamo riprendiamo aiutare 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 signori 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 spegnete 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 stacca 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 questo signore con la felpa rossa appena commesso un reato un'aggressione contro questo signore perché voleva solo vendere una zucca accendete le telecamere signori accendete accendete le telecamere i microfoni tutti signore si può girare per favore è successo un reato questo signore con la felpa rossa ha dato un pugno a questo umile cittadino la felpa rossa cosa ha da dire se ti scolpa vai signore perché ha fatto questo ma cosa ha da dire se ti scolpa signore perché sta mostrando il culo al signore per terra perché non lo riesco a starlo questa vabbè non ci interessa comunque l'abbiamo visto in fraganza di reato esatto abbiamo anche ma 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 scureggia su questo no 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 oh intervistiamo questo signore signore intervistiamolo che fulminati che sono venite dentro a fare interviste che c'è da molte centra dentro l'intervista dentro venite dentro a fare interviste venite dentro a fare interviste dentro ragazzi oh mi senti venite questo è quello che dicevo io di persona di Banquest ma che venite dentro andiamo a snack qua c'è tanta gente chacoschic chacoschic chi apre la porta che noi no ok che signorete mi fa una cortesia attenzione c'è uno con le manette buonasera signoreto buonasera 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 allora vuole lasciare intervista vuole lasciare intervista a troupe televisiva signor procuratore sì prego prego questi ragazzi faccia avanti faccia avanti faccia avanti faccia avanti ci sta rovinando le riprese un pochino di distanze che so soffochiamo il procuratore gentilmente scusate ci mettiamo vicino solo con i microfoni perché sennò qui non si sa niente buonasera 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 vabbè se no le posso al microfoni signore no no grazie grazie signore ok ok poi signor no allora scusate i due già chiedi perché se no si sente un cazzo parlano tutti io volevo fare una domanda ma prego come mai un procuratore un procuratore come la passate la voce con le tn beh guardi siccome ho qualche problema di deambulazione mi fanno un po' mali i piedi come si suol dire ho visto le scarpe grazie grazie mille signora diciamo che queste scarpe sono conosciute un po' per il mondo ma io sono dovete abbassare le corde signori mi si sente fino a impero avete rotti i coglioni dopo ci si sente fino a ci hai pagato io 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 è il biondo bello ok arrivano arrivano 5 5 domande perfetto come è pianto bello qui non avere bradio e a dire a me no non ti faccio vedere molto no ti riporteremo però tranquillo dai grazie grazie arrivederci 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 figo questo posto allo silas mi piace mi è andata il casino silas silas ragazzi chi non mi sono mai presentato ragazzi sono orchi piacere oh piacere io sono silas piacere già la conosco non so lavorare così ma noi noi l'agente di viaggio non si aveva detto che il proprietario comunque del centro commerciale ci avrebbe comunque regalato una macchinina per iniziare con la moto dentro ah no no come fai oggi è un casino ci ha fatto pagare anche da mangiare dobbiamo fare un reclamo all'agenzia di viaggi io non ho pocato niente io sì perché puttanato adesso vado a dare mi ha anche dato dei soldi anche? mh ah aspetta un attimo ecco ma perché dire fratello? ahhh perché lui sarebbe fratello sfortunato eh? svizzero lui adesso puttare da sopra no no svizzero che vuoi? eh c'è quell'altro lì nero con i capelli tutti trecine che ti ha minuto minacciato prima sa chi? a me è uno sì sì io faccio diventare come pechinese è finita per sempre ah sì è uno è uno è una luna grazie per la quella mia dormire perché domani è grande giornata ah sì noi germania andate domenica questa sì sì così tanto ecco io domani sei e mettere subito e occhi aperti ma io non problema io riescire a stare un po' sveglia quindi io volerei tanto tanto bene voi e io non so adesso dormire su quella poltrona è civile la plastica però tu dici poltrona a dormire ma vai in un albergo no? quale è a perco? vai in perco? quale è a perco? al bunkalo allora dormi sulla poltrona vai a albergo con poltrona eh bunkalo 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 accompagniamo diamo un passaggio accompagnate a bunkalo grazie accompagniamo quasi quasi metterà a dormire anche io ma questo tetesco come chiamare io essere qua se voglia io ancora non sapere il nome del tetesco questa linea è vero come cazzo si veste questo qua come ti chiami i belli vestiti scusa io Peter Schwarzkoff come interiore io lavorare qua come rubro il tempo come rubro il tempo vogliono forza devi conoscere Peter Pan ah Peter è uguale Peter se vuole aver messo anche il mio documento signale eh si chiama andare potente fratelli abbiamo davvero io no tu anche e anche tu porto d'arma no quello non c'è ok oh questa macchina qua è molto bella bellissimo il bungalow sulla spiaglia adesso andiamo Carmen andiamo a vederlo portiamolo giù a dormire prima abbiamo fatto camminata tipo alla bad boys bad boys cosa città per voi come fare what are you gonna do what are you gonna do we come for you quindi cosa stiamo decidendo di rimanere qua signori stiamo decidendo di investire quindi il nostro capitale qui devo avere ancora piacere di parlare con i proprietari di attività per il mio progetto come ti avrei spiegato però prima voleva capire bene che adesso tutti i locali chiusi non c'era nessun ah 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 ma te come cazzo avere fatto a darti patente te ha fisso d'usorata ha fisso d'usorata ho mettuto la cintura cazzo io sarei stato a Napoli eh sei messo di noce eh mi ha detto mi ha detto qua tuo fratello chi è questo a fianco a me mio fratello grande maggiore eh tu essere originario con la mamma a Napoli Napoli ah io ho fatto anche a fare a Napoli che a fare fratello eh no lo ha fatto a loro affari con me eh volevano un iPhone in stazione mi sono aperto la confezione c'era un mattone essere davvero rincoglionito ah 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 e ti ancora a fare questa cosa giusto sì ma fare questa cosa da anni 80 come cazzo è che tu non torni nel 3000 farai ancora pacchi questo trucco in Germania eh ma avere visto con che camicia andare in giro ragazzi ragazzi dove cazzo dove cazzo punkalo punkalo oh spiaggia qua aspetta spiaggia aspetta io adesso mettere il numeretto a te qui ah spiaggia bello mare mare molto bello mare 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 voglia di arrivare quando ci sei tu guidate bastardi guidate rotto cazzo di fare autista di merda andiamo ah io cintur ah qui tappello belli belli occhiali mezzo il camper andiamo non penso l'abbia già comprato mezzo il camper boost spesa iphone e poi dopo che l'avevi scambiato no ha fatto un giochetto molto più intellettuale lui ha fatto vedere me il cellulare poi hai messo dentro il sacchetto di spesa no dentro la confezione originale ok lui mentre che mi ha dato confezione ha cambiato confezione lui prima ha detto oh i mortacci sei un coglione sei un coglione non ce la facerlo e la trovare qualcuno che essere capace a guidare in questa famiglia questa macchina è molto pericolosa dobbiamo trovare solitamente qualcuno capace di guidare io essere driftman ha visto a me driftman io in germania facevo gare con michael schumacher con biglie su spiaggia ah io lo sfidavo a calcetto lui giocava io lo sfidavo un'altra cosa ma non la posso dire centri qua sotto sotto centri 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 giù 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 e laggiù non lo vedi complesso ma posso andare con la macchina si 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 con la macchina così ah quarta ci sono ci sono golf cart prendiamo quelle per andare oh non avrei visto questo adesso andare a giocare a colt quarta nave quella adesso andare a giocare a colt comprare io quella quale nave volete fare caretta ecco no mi si è rotto il telefono cioè se vai in acqua ragazzi ti si rompe il telefono no ma che bello sto posto posare la chiave ah salve 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 ragazzo avere rotto il mio telefono avere rotto il mio telefono brutto adesso dovere ricomprare andare andare ricomprare io ma c'è scritto a riparare però ci saranno i tecnici i tecnici oh yeah oh moto d'acqua in affitto qua dove qua sotto a sinistra guarda a sinistra c'è neanche a destra scendiamo scendiamo prendere aspetta 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 prima portiamo zio a casa che è anziana e deve andare provare l'ultimo non può entrare in uno di questi a casa eh oh faccia un po' di drift fratello tiriti tiriti andiamo in acqua tutti e due stai a vedere no fratello fratello fidati ahia guarda che linea guarda che cosa ahia 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 ma questa è una piscina fratello piscina di mare piscina di merda piscina di merda di mare di mare no di merda mare di merda dice intenta vignano se forse ci so di squale è questa la tua più lontano non c'era più lontano non ce l'avevi? orca così qua stare sicuri i nostri soldi no? piace proprio acqua oggi signore jacuzzi jacuzzi ok signori io chiudere gli occhi qua tu che fare fratello dormire anche tu? devo andare a chiustare telefono che questa starronza mi ha buttato in acqua adesso si rompe il telefono? eh si si rompe il telefono si vede ah capito hai capito un cazzo ma tu avrei tanti soldi domani ricomprare di nuovo e adesso andare di nuovo a ricomprare lei fare come è fatto con me napoli vendere il tuo cellulare rotto a mattone io adesso andare a fare cerco il moto d'acqua ciao ok io dare la buonanotte 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 dov'è essere il moto d'acqua qua sotto andare cazzo andare in moto d'acqua dov'è essere il moto d'acqua anche qua sotto qua sotto guardate che fondali raga oh senza benzina maledizione vediamo vediamo tutte senza broda tutte senza benzina peccato volevo provarle raga volevo farvele vedere bella verde prendiamo la verde sono tutte senza benzina guarda che sfiga dove sono andati? non li vedete mai sono in salvia destinazione adesso dove è finita? dove sono finiti? che cazzo fare voi due dentro l'acqua? che cazzo fare voi due dentro l'acqua? cosa fare dentro l'acqua? cosa state facendo? gira un moto d'acqua bello ti piace? segno? aspetta ti doveri dire una cosa importante ti doveri dire una cosa importante andiamo importante sei già scopato? no la ragazza probabilmente viene con noi molto bene molto bene ah siamo senza benzina dove cazzo andare? per andare indietro che scuola finire benzina eh finire benzina poi ci sono gli squali porca puttana facciamo a nuotare andare 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 andi qua fermi bastardi frontale vado frontale ecco finita benzina finita benzina dove essere zio tedeschi non capiamo dai da dormire come andare via? cambiare cambiare prendere questa come andrei via? si zio? eh dai da dormire si è il numero di chi? dalla ragazza mica avrei dato il numero a zio ragazza? no l'ha dato a me ok e mica tu volerai dare il numero a zio? io si ma non volerai trompare tu ragazza? no allora trompare io? no allora trompare zio? adesso vediamo ma zio ma perché zio? sono tutti quelli che ci sono zio zio mi sembra un po' sfigato zio va bene va bene ci sta tu puoi trovare capito? che cazzo trovare ammazzare gente di lavoro che è trovare donne che poi gli ammazza la famiglia tu scopare poi gli ammazzare quale è il problema? ma mai pensato questo? come mai pensato? scuso ma ci avevo ancora pensato stiamo rimanendo a piedi anche con questa moto eh ma che moto di merda sono tutte senza la mesina questa? queste non essere svizzero americane porca puttana queste non andate un cazzo sono cammelli comunque ma sono tutte senza anche a me ho finito in acqua dove ci sta il telefono qui? tu conosci? eh negozio quello dove comprare andiamo a riparare eh adesso andare dove è la ragazza? eh e gli altri due dei coglioni ecco ma avere tagliato capelli dire andare a giustare telefono questo che cazzo essere andiamo a fare qualcosa fratello andiamo a stare a telefono cosa non sentire alza alza la voce andiamo a gestare a telefono ma essere qua zio oh no non essere zio essere derogato non sentire che cazzo dire andare a gestare telefono andare 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 no fottiti lascialo qua andiamo sulla bacca la bacca che parca fottiti fottiti stronzo mi hai lasciato a nuotare in mezzo agli squali fottiti fottiti ti hai lasciato a squali? si fottiti c'erano a squali? persona veramente di merda di merda andiamo si squali squali ehi ma come è possibile ma ma ok ha finito non avevo tanto voglia di camminare prendiamo il golf cart oppure una macchinina che diamo in prestito a un signore gentile avvieni andiamo fratello andiamo andiamo faici coglione americano di merda io discusso tutto discusso pezzo di merda dispacco col dispacco col ti ammazzo tutto vuole salire o vuole farsela a piedi? vuoi prendere botte anche tu? ma voglio capire una cosa sta prendendo il mio stile che ha le ciabattine come mai io avere ciabattine? ma mi dissociano adesso è molto meglio adesso avere messo un mocassino andiamo ad aggiustare la macchina ragazzi amore l'ultimo like dieci minuti fa e siete entrati almeno 50 cristiani a guardare ma perché non lasciate il like quando entrate? perché? 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 io la prima cosa che faccio quando guardo la Davide e gli altri miei amici entro lascio il like e vi guardo il pezzo di like che vi interessa ma perché? cazzo stai facendo e aperterà la portiera così può andare a fanculo avete questo brutto vizio di entrare nelle live non lasciare un like un pollicione è gratis ragazzi ah la sinne anche come sigaretta ma chi? non ho capito ma io ma io non sto capendo ma come cazzo fai? lei ha aperto la portiera così può andare a fanculo il pratica provocato ti sta dando del lei ma questo è un coglione ma dove l'abbiamo raccattato? dove l'abbiamo raccattato che cazzo nel sapere io ho trovato dietro di me ed mi si è messo dietro tutta sera ho capito mi sembra ragazzo tutta Germania tutta Germania con noi perché questo è tetesco come noi lui ha sentito l'accento si è avvicinato e adesso sta con me e ah mi piace che gente che parla come me fottiti fottiti guarda dallo specchietto retrovisore fottiti ah lei se le vuole ancora aperta la porta sa? per andare a fanculo ha lasciato aperta aspetta aspetta ma visto che c'è anzi anche il comito il comito alzi un attimo il comito infatti non costa nulla eh mettere like eh andrà è vero eh non lo so non lo lasciano non lo lasciano c'è da fare a prendere il telefono nuovo perché tu avevi rotto il telefono dai tu i coglioni ma mi sto andando a comprare due nuovi per me no tranquillo tanto non ti servono dove andare guarda 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 ha buttato giù il paletto e lo sportello guarda che coglione che è un coglione voleva il telefono nuovo qua comprare io ero venuto qua vediamo se passa garanzia dove cazzo ma non è qualcuno ti sembra un negozio di telefoni di questo coglione questa non è negozi di telefoni oh fra non darmi ordine oh non dagli ordine ha capito non devi dare ordine alla signorina signorina tu che cazzo vuoi drogato ma dove ci ha portato il troccato dove cazzo ci aveva portato e qua il telefono sa dove e qua deve essere più avanti forse e ti è là no era di qua il negozio di telefono il primo quello rosa esatto ma scusa compriamo un'altra oh mi ha cambiato il numero vediamo ma ah che cazzo lo sono da solo vabbè dica ma ero al telefono camera sono appena tornato a casa e sono in live ok grande marcone l'hai trovato? io avrei comprato il telefono si ah ma tu hai comprato pan perché lo devi aggiustare non comprare come come fai a aggiustare? eh in teoria si dovrebbe aggiustare trovare un modo per aggiustarlo io l'ho ricomprato solo che il problema è che non me lo fa usare perché avere uno rotto allora fare così dare quello rotto a qualcuno ah no secondo me ecco è inutile che me lo dai a me come si usa il telefono? non funzionare scusami scusami vieni qui eh dimmi vabbè io il tuo lo butto per terra perché aver buttato? perché non mi serve eh quindi che cazzo facciamo con questi telefoni? eh prima mi hanno detto che quasi sia giusto ma si possono aggiustare ragazzi 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 sì ma eh non magari stanno intervenendo quelli che li creano i telefoni capito? eh stanno intervenendo ora a me non è un problema basta che c'ho la radio mi interessa ah punto il telefono non ti serve per parlare con mo noi è troviamo un macio che c'è bene stagando quello lì che prima ci ha fatto schiantare e tu ci hai staccato nel portello dai ha staccato nel portello per mandarla a fanculo più facile allora cosa mi dite ragazzi andiamo a farci un giro concessionario magari troviamo qualcosa che ci può soddisfare l'anima ah oh ma questo a me manca una cosa nelle tasche un po' ti trocca ah sì ma avevi detto che non ti toccavi più no non tocca niente io io tocca gli altri sai che un poliziotto mi ha già detto che guido troppo spericolo totalmente ah polizia è una brutta cosa sa no io fregare me ne frega bella Jimmy grazie per il like bello mio ah si è dato a comprare anche polizia noi ah 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 metterli in dar culen a tutti quanti ma vedi la macchina a volare io e a volare quelle macchine dove 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 mettere punto qualcuno gps ha messo gps è vecchio per andare dove ok andiamo a poter andiamo a fare qualche lavoro andiamo a provare i lavori andate a fare in culo no ok allora andiamo a vedere e non avrei mai lavorato andiamo a vedere i locali i locali oh zio andiamo a vedere l'attività che vogliamo comprare no dove io avevo aperto punto è la banca la banca e questa volta vuoi puntare proprio in grande fratello in grande voglio puntare tutti i miei risparmi di nostro padre nostri tutti sarà la fine sarà la fine se sbagliamo si 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 ma andiamo a vedere e ci riposiamo un po' perché sto iniziando ad avere stanco chiudo proprio gli occhi due secondi si di banca eh si bisogna voilà non voglio andare a lavorare eh lo so zio hai ragione anche tu che ci vuoi fare amico mio bisogna pur lavorare adesso qua che cazzo fanno vediamo se si riconnetta al volo entriamo salutiamo grazie per il like tio qua nessuno ci lascia un like siamo fermi da un po' siamo arrivati a 105 e ci siamo fermati mannaggia il cazzo stas riparte non luglio la sia tutta nasce tutto in 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 o vediamo se ci fa rientrare è ripartito a provare ad andare al lavoro bella è sta canzone ragazzi ma no non va più non va più ragazzi mi sa che ci dobbiamo fermare stasera mi sa che ci dobbiamo fermare si non va più ragazzi eh Angelo mi sa che chiudo io grazie per il like ragazzi grazie Gianluca grazie Angelo non va più io vado ci si becca domani notte a tutti buona notte zio oh dai un minuto eh vabbè ma tanto Andre sono tra l'altro sono le due quindi direi che ci facciamo i saluti dai allora era per salutare AIDS che non so dove cazzo ha a me sta caricando eh ma secondo me c'è non so vediamo dai vediamo se va va Riccardone grazie per il like grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti facciamo banca e sport finiamo in commissariato Spirro ci legge il codo no non è il primo reato non ci parlo coi codo puntiamo al colpo di stato faccio più soldi di un emirato agente giuro io ho mai spacciato nemico è bellissimo Sandrone anche la canzone mi piace un botto ma adesso saluto AIDS e gli altri venga poi scommiamo ah sono al centro con me aspetta che mi carica tutto qua e non vedo niente andiamo a uscire eccola ci sarà una stanzetta per dormire in questo albergo ci sarà qualcosa o andiamo a dormire anche noi in Bunker basta andiamo a prenderci una casa di un amico che conosco Bunker lo fa bene molto carino ma tu perché stai andando a letto ma io sì volevo chiudere e passare un attimo di là cercare di capire se tutto è andato bene ah e quindi se è possibile fare il contratto per l'attività e quelle cose lì ma tanto io domani non essere sai proprio tu appunto appunto ma almeno a farti dare tutto e non so se faranno già adesso o magari per lunedì come dicevano sai che dicevano lunedì magari c'è domenica sera poi ok 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 devo passare sì sì perché voglio provare a farmi dare una macchina dall'importatore così ce l'abbiamo allora c'è allora andare a dormire dai chiudere occhietti chiudere qui sì ma andiamo troviamoci un posto dove dormire dai qua dai cosa facciamo andiamo a Bunker lo stesso andiamo 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 voglio essere molto non avrei mai teschi non avrei dimenticato come si era un panomacchia no 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 mai vuoi essere molto latri mettere punto mettere punto In testa? In fronte Come cazzo si esce da sto posto di merda? Qua si è un parcheggio fratello E cazzo ci devono parcheggiare qui dentro Guarda piano comunque macchine qua Ma... Guarda che quello che avevo io inizio E' baffo, è baffo Quello che avete chiamato prima poffo Baffo magico, pelatone, pelatone Sì sì, pelatone Non chiamare pelatone che si arrapia come fuma Comunque, dicevo Hai visto macchina che avevo io inizio? Quella è un animale, eh Un animale Se me non fare rumore non piacere me Eh, io lo so, però io per stare dietro poi Tanto che eravate lenti Dovevo premere e mollare acceleratore di continuo Perché eravate troppo lenti, troppo E noi che vi invitavamo a fare Ti invitare molto bene in questa cittadina E noi ci te lo ricordi per farlo il bellissimo Reci e Siracusa Siracusa, 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 Siracusa Ma, il primo non è Siracusa, il secondo era Eh... Preso un arbero Oh, fermo, fermo, fermo Fermo cazzo le domande a fare tomancia cosa vuole ma è fatta quel dipinto su quel muro mi sa qualcosa se sembra sua faccia fratello maledizione è successo steguendo tutto come se non è un problema se fermo cazzo se fermo fratello fatti se incoglionito tutta dura e preso dico è un ictus chiama un'ambulanza è l'unico che non fare incidenti fate cacare guidare dei suoi a capito a fare cacare c'erriare qualità carta come guidare bene io la aliquetare molto bene la vada vada anche con la macchina può venire qua bene bene prendiamo primo qui 1 2 3 4 che male che fantasia 1 2 3 4 così io sempre è un povero civico oh qui c'è le porche figo ah molto bello qua anche bar dentro il letto ah è da qua che per la mia camera aia qui cos'è essere dove cazzo sei andato fratello fratello è andato AIDS ma dove è stato andato AIDS ah non sapevo dove andare guardi qua forse abbiamo abbiamo perso il mio fratello ah tuo fratello mi sa che è un po' berichino vabbè bello mio io dormo qua sa ah dormire anche io adesso dormi su tivano ah a fianco a te a fianco a te vicino tu dormi su tivano io dormo su letto ah ok magari la notte poi vengo con te ah 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 io avrei buttati in acqua ma non pensare eh vediamo se si mette giù ah non funzionare ah si ah 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 perché non dormire perché non dormire mio ah ah allora buonanotte Andre allora ragazza ci siamo arrivati alla fine di questa prima puntata oh pezzi di merda mi avete lasciato a piedi brutti sacchi di merda bastardi come cazzo essere? sono venuto a piedi maledetti bastardi fratelli di merda fratelli di merda ma quando sei sceso scusa? hai avuto un calo di zuccheri bastardi bastardi ah ok ma io non riesco a dormire non riesco a sdraiarmene scusa penso che sia Tormi e Tormi non Tormi aspetta aspetta aiuto ah Tormi così oh si ah ho già trovato finalmente dormire un po' storto così tigre grazie per il like bello mio siamo in chiusura amore mio vediamo se riusciamo ah bene che mi sono accasciato così ecco ah devo aver messo il piede in testa pezzo ti merda come stai? buonanotte a tutti ragazzi non ho conto è stata una giornata lunghissima perché come tutte le volte che si inizia una città come avevamo fatto col maestro l'altra volta sono due giorni che mangio la schivania tra adesso essendo anche parte dello staff è stato veramente veramente un disastro però dai due bei giorni duri ma siamo partiti la città è bellissima come avete visto tigrone vieni ci a trovare poi e niente sono cotto raga sono stracotto sono stracotto veramente ringrazio a tutti per i 111 like che avete lasciato ragazzi siamo stati bene veramente in tanti stasera è stato bello sono contento che giornate te lo ricordi tigre praticamente sono due giorni che faccio uguale cazzo prendi prendi compra tutto metti tutto a posto l'attività e tutto quanto mamma mia la tigre sa di cosa parlo abbiamo un po' passato all'inizio della v3 quando siamo passati dalla fine v2 all'inizio v3 tra background pg e cosa fare cosa non fare i ragazzi e comprare le attività e farci dare i blip i soldi e tutto quanto è stato delle giornate veramente dure e adesso praticamente abbiamo fatto uguale essendo adesso anche comunque un pochino nello staff palombo grazie per il like abbiamo aiutato a fare un po' di cose tra l'altro ieri e ieri riunioni dalle 7 alle 8 di sera bella tosta ma due giorni a mangiare qua la schivania siamo partiti la città è partita ci siamo avviati e mi piace mi piace molto la la city mi piace molto quello che abbiamo visto le torri tutto quanto le robe nuove che hanno messo è proprio questo questo nuovo complesso che c'è qua nel quadro amore mio ho risolto grande cele quindi da domani sei le nostre anche tu bella cele anche perché quello che faremo quest'anno ragazzi è una bomba nucleare cioè io penso adesso da come l'abbiamo strutturata inizialmente il pensiero di quello che vogliamo fare e quello che sarà è molto forte chiaramente adesso abbiamo anche un po' di esperienze in più e tutto quello sono in assistenza arrivo arrivo disposto subito è stato lungo è travagliato ma è venuto fuori un bel progetto spero che che vi piacere anche a voi sicuramente agli ragazzi della mia fazione qualcosa ho accennato ma non tutto voi non sapete niente non dovete sapere niente bella Johnny quindi tutto quello che sarà appena poi dobbiamo parlare ho bisogno di te certo Cere quando vuoi vieni sul discord ne parliamo nessun problema lo sai iscrivi e niente adesso vado in assistenza ragazzi un attimino vado a vedere come è andata la città un po' per tutto volevo segnalare due cose che ho notato e niente ci vediamo domani no domani no che è sabato sera ci vediamo domenica sera in live si parte con la storia speriamo che ci avviano già tutto se no al più lunedì ci avviano tutto quanto attività e tutto quello che sarà e poi da lunedì vedrete vero rp della v4 di gravo quello che abbiamo intenzione di fare buonanotte a tutti ragazzi è stato un piacere come sempre grazie a tutti di cuore per i like grazie per le condivisioni grazie per le stelline grazie per esserci stati anche su un messaggio in chat ciao belli a domenica sera grazie per la visione